Allora credo a questo punto possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Possiamo aprire la seconda sessione del convegno dedicata alle regioni a statuto ordinario. Sono lieto di poter presiedere questa sessione. È un evento importante, come sappiamo tutti bene, è un evento celebrativo del cinquantesimo anniversario dello statuto del settantadue, cioè del secondo statuto di autonomia della nostra regione. È un momento celebrativo, però come si addice all'Accademia è anche e soprattutto un momento di riflessione, quindi abbiamo la possibilità di riflettere sul nostro statuto e in questa sessione in particolare la possibilità di riflettere sulla questa specialità e sulle specialità è osservate dall'angolo visuale del regionalismo ordinario. Naturalmente, come i relatori sanno bene, c'è libertà nelle forme, nei contenuti, dei loro interventi. Volevo soltanto proporre, diciamo, una possibile, un possibile fil rouge di riflessione proprio relativamente all'osservazione delle specialità viste dalle regioni ordinari, dall'angolo visuale, dal punto di vista delle regioni ordinarie. In fondo le specialità, come sappiamo tutti benissimo, nascono in solitudine, abbiamo avuto lunghi anni, decenni in cui esistevano in realtà soltanto le speciali. Poi all'inizio degli anni settanta del secolo scorso le regioni ordinarie da soggetti virtuali diventano soggetti reali in grado di concretamente operare ed agire. Questa è la sentenza, la nota sentenza 39 del 71 della Corte Costituzionale. E da allora le vicende delle regioni speciali, le vicende delle regioni ordinarie, si intrecciano lungamente e variamente. All'inizio le speciali, per quanto possa sembrare forse a posteriori un po' stupefacente, non si pongono come un modello per le ordinarie, perché, come è ben noto, la regionalizzazione dell'intero territorio nazionale sembra la premessa per una profonda riforma dello Stato e della sua amministrazione. Si pensava che attraverso la regionalizzazione si potesse arrivare alla riforma dell'amministrazione dello Stato. È noto che questo poi sostanzialmente non è avvenuto, una delle forse delle grandi speranze diluse della nostra storia repubblicana e a partire da quel momento ci sono, come si potrebbe dire, forse inseguimenti reciproci tra le speciali, le ordinarie. È noto che all'inizio, forse un po' paradossalmente, sono le speciali che inseguono le ordinarie, non tutte le speciali, forse questa un po' meno, però rimane il fatto che i trasferimenti di funzioni spesso nelle speciali seguono in realtà quelli delle ordinarie. Abbiamo i decreti di trasferimento per le ordinarie, il 616, il 777, notoriamente per che non è uno, e poi soltanto tardivamente e pedissequamente norme di attuazione che non fanno altro che riprodurre lo stesso trasferimento per ciascuna specialità e quindi da questo punto di vista la specialità sembra quasi essere un freno, lo stesso ricorso alle norme di attuazione che dovrebbe essere, veniva detto molto bene da Nico Falcone stamane, una occasione di valorizzare il rapporto singolare con lo Stato, lì diventa paradossalmente quasi un ostacolo alle nuove funzioni. Poi l'inseguimento, l'altro inseguimento notissimo, è sulla forma di governo, l'autonomia statutaria in qualche misura, la legge costituzionale 2 del 2001 insegue la legge costituzionale 1 del 99 sostanzialmente sia dal punto di vista dell'elezione diretta, del vertice dell'esecutivo, sia dal punto di vista dell'autonomia statutaria. È noto che le leggi statutarie nelle speciali assomigliano tanto agli statuti ordinari ex articolo 123 costituzione vigente. E poi in realtà fase in cui sembrano le ordinarie a inseguire le speciali. Faccio riferimento soprattutto, se ne parlerà domani, al regionalismo differenziato. Una sensazione che io ho sempre avuto, penso abbastanza condivisa, è che in qualche misura il regionalismo differenziato abbia segni come uno dei possibili obiettivi, avvicinarsi alla specialità, non dico diventare speciali come chiedevano dei quesiti veneti dichiarati, diciamo, costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale, però avvicinarsi in qualche modo, essere qualcosa, avere una parvenza di specialità. Questo dal punto di vista finanziario, naturalmente, ce lo diceva anche in questo caso molto bene il professor Falcone stamane, la certezza delle risorse, addirittura con garanzia di grado costituzionale, l'autofinanziamento delle funzioni, abbastanza evidente questa aspettativa nei progetti di differenziazione regionale che sono arrivati ad uno stadio più avanzato. E inoltre il dialogo esclusivo e diretto con lo Stato, il potere dialogare che in fondo sta nella stessa, nello stesso procedimento del terzo com 116 e che ricorda parecchio la caratteristica, una delle caratteristiche delle speciali. Quindi sicuramente in seguimento delle speciali, forse non di tutte le speciali, soprattutto di quelle alpine, sicuramente di questa speciale, sia dal punto di vista dell'autofinanziamento, sia dal punto di vista del dialogo fruttuoso e singolare con lo Stato. Questo naturalmente è soltanto una possibile prospettiva. Abbiamo l'onore e il privilegio di avere a questo tavolo e collegati alcuni dei più autorevoli studiosi di diritto regionale e quindi penso che il pomeriggio sarà veramente ricco di spunti e di suggestioni importanti. A questo punto io comincerei a quel nostro dibattito dando la parola a professore Enrico Carloni dell'Università di Perugia che ringrazio per essere qui con noi. Per lui se fosse stato lì di aspettare. Allora intanto grazie, grazie per la presentazione, è un piacere essere qui, per cui ringraziamento doveroso agli amici e colleghi di Trento che mi hanno coinvolto in questa bellissima iniziativa. Sono i 50 anni del secondo statuto di autonomia regionale e di questo che parliamo, però sono anche sempre guardando alle ricorrenze, 50 anni dall'istituzione piena delle regioni ordinarie col DPR 8 del 72 quando c'è il trasferimento di funzioni, per cui per quanto si possa collocare in vari momenti l'attivazione effettiva delle regioni, una di queste date coincide con quella della ricorrenza che celebriamo e poi veniamo dopo un decennale molto commentato e molto celebrato che è quello del titolo, un ventennale scusate, è quello del titolo quinto e il ventennale insomma è sempre un momento particolare per riflettere, diceva Guccini quasi come Dumas sulla quello che avrebbe potuto essere quello che è stato a una distanza ragionevole di tempo. Per le regioni ordinarie è chiaro che il discorso si colloca molto nel ventennale del titolo quinto e quindi come confronto tra quello che avrebbe potuto essere e quello che è stato. Come però ci viene chiesto la questione va anche colta dal punto di vista specifico delle regioni speciali che come veniva detto sono necessariamente inevitabilmente in stretto dialogo con le regioni ordinarie. Proprio la solitudine delle regioni speciali è stato per lungo tempo un dato costitutivo del sistema istituzionale italiano e ha contribuito ragionevolmente secondo molti commentatori alla debolezza complessiva della cultura regionalistica. Quindi come veniva detto anche stamane è chiaro che le autonomie e il regionalismo sono un fenomeno che in qualche modo o marcia tutto insieme anche se a velocità differenziate come verrà visto anche domani o con percorsi speciali come quelli dell'autonomia delle regioni a statuto speciale oppure rischia di fermarsi in una dinamica che inevitabilmente scade nel centralismo. Il momento in cui discutiamo di queste cose è un momento di particolare debolezza credo questo sia confermato anche dei interventi di stamane del regionalismo nel suo complesso e del principio autonomistico in senso più ampio. Processi di più lungo periodo che hanno inciso in modo importante sull'attuazione del titolo quinto su cui proverò a dire qualcosa hanno visto poi sommarsi a questi le vicende più recenti della stagione della pandemia che inevitabilmente è stata una stagione non soltanto di inevitabile centralismo praticato e di centralismo affermato ormai anche a livello di corte costituzionale ma anche di messa in discussione a livello diffuso delle ragioni stesse della direi non soltanto del regionalismo e dell'autonomismo ma della stessa esistenza di questi confini regionali dentro i quali siamo stati fondamentalmente contenuti durante la stagione pandemica senza poter cogliere spesso il vantaggio del fatto di essere come dire per questo amministrati dentro determinati confini regionali cioè per il cittadino comune la pandemia è stata un'occasione di scoperta di confini regionali che fino a quel momento erano tutto sommato evanescenti erano confini essenzialmente amministrativi ed è stato anche un momento di messa in discussione quindi delle ragioni stesse del fatto che sussistessero questi confini e questi enti di governo alla stagione della pandemia si somma adesso la stagione come dire di ricostruzione del piano nazionale di ripresa e resilienza che come vedevamo stamane è un processo straordinariamente centralistico governato dal esclusivamente come dire dal centro sia nella elaborazione che poi nello sviluppo con una fase fondamentalmente soltanto attuativa con ricaduta sui territori e quindi un centralismo che non è minore quando si dà che quando si toglie anzi il momento come dire della generosità dello stato centrale il momento in cui si può arrivare ad un livello di penetrazione come dire diversi contesti autonomi anche maggiore di quello che possiamo fare con inevitabili resistenze nel momento in cui si pongono vincoli condizioni oppure si opera per sottrazione quindi siamo in un momento di bilanci ma anche un momento particolarmente complesso il primo bilancio su cui provo a ragionare con voi è quello della distanza tra il titolo quinto che avevamo immaginato che è nel testo costituzionale oggi veniva detto che inevitabilmente la corte costituzionale è molto contenuta dal testo letterale della costituzione come ogni interpretazione certo si parte dal testo però devo dire che se noi osserviamo l'ordinamento quale si è sviluppato e osserviamo il testo della costituzione non troviamo nel testo costituzionale del titolo quinto rappresentate le regioni e gli altri enti territoriali quali essi sono a partire dall'articolo 114 della costituzione che è stato molto commentato nel momento in cui è stato adottato come chiave di volta per reinterpretare tutto il titolo quinto in cui troviamo come troveranno gli studenti nei libri di testo questa elencazione ribaltata che parte dai comuni per arrivare allo stato con lo stato che dentro la repubblica dimostrare la equio ordinazione e però la corte costituzionale il legislatore la vicenda come dire iconica delle province ci hanno dimostrato che questa equio ordinazione non è in realtà nell'ordinamento è nel testo costituzionale tanto che uno degli enti pari ordinati può essere visto ora come casa dei comuni quindi al servizio dei comuni ora come soggetto che può essere tranquillamente come dire espunto dal testo costituzionale prima di essere espunto dal testo costituzionale ma ancora di più forse l'articolo 117 l'articolo 117 ci rappresenta un'idea di regioni come enti di legislazione che era la prospettiva più sfidante forse della riforma costituzionale del titolo quinto ma le regioni sono enti di legislazione se andiamo a vedere le regioni ordinarie la legislazione che viene prodotta dalle regioni ordinarie io ho fatto questo esercizio senza pretesa di esaustività semplicemente come dire su qualche anno andando a vedere un po di regioni ordinarie quindi può essere fatto in modo più completo però il dato che ne ricavavo era un dato disarmante diciamo un numero di leggi regionali nell'ordine di 20 25 24 leggi regionali la gran parte leggi legate a vicende di bilancio oppure a vicende finanziarie che avrebbero potuto essere risolte con atti amministrativi non legislativi pochissime leggi come dire che in qualche modo intervenire intendessero intervenire su fenomeni materiali in ambito territoriale differenziandoli realmente quindi una legislazione di amministrazione più che una legislazione politica di riforma ma come veniva detto bene da falcon stamane in effetti è difficile per un legislatore regionale legiferare costretto com'è tra vincoli statali interpretazioni costituzionali normative europee tanto che in realtà se andiamo a vedere nel corso del tempo una serie di spazi che si ritenevano regionali sono di fatto letteralmente evaporati come ad esempio non so i lavori pubblici o quant'altro quindi un ente che fa pochissima legislazione è un ente che se fa poca legislazione deve però come ritrovare un ruolo diversamente come ente di amministrazione appesantendosi certo tradendo l'idea che come dire risalente della legge della regione leggera ed anzi entrando in competizione con gli enti sul territorio nell'esercizio delle funzioni amministrative da cui si spiega anche la vicenda di nuovo delle province come enti in qualche modo come dire destinati nei diversi contesti territoriali con soluzioni queste differenziate ad essere fondamentalmente assorbiti nelle funzioni amministrative proprio da parte delle regioni ma questa amministrativizzazione riflette a mio avviso come dire un difetto politico più di fondo delle regioni ordinarie che forse possiamo cogliere nel complessivo tessuto autonomistico e anche credo in larga parte delle regioni speciali però questo altri potranno dirlo da un lato come dire c'è un tentativo di ricerca di nuove ulteriori funzioni che si sviluppa secondo i percorsi del regionalismo differenziato dell'articolo 116 ma dall'altro c'è come dire lo svilupparsi mi pare di uno scambio perverso a livello di rapporto tra regioni e stato uno scambio nel quale come dire c'è meno autonomia ma c'è più riconoscimento di potere ai vertici come dire dei esecutivi regionali cioè in questi grandi processi fondamentalmente centralistici che sono stati la pandemia da un lato e il piano nazionale di ripresa e resilienza dall'altro quello che a livello di autonomia mi pare si si accetti troppo spesso è un disegno assolutamente centralistico nel quale però i vertici delle regioni e anche alcuni grandi comuni spesso e quindi sindaci di alcuni grandi comuni o lanci che li rappresenta riescono a sedersi a tavola insieme allo stato per definire le coordinate politiche di sviluppo e a volte c'è addirittura uno scambio ancora più perverso in cui come in alcuni progetti di riforma troviamo espressamente mi pare un disegno chiaramente centralistico accompagnato a degli come dire con agli esecutivi nei termini ad esempio di una della possibilità di presentarsi per ulteriori mandati o nei termini di una riduzione delle forme di responsabilità che competono allo svolgimento di certe cariche pubbliche quindi in uno scambio ancora più evidente in cui si rafforzano le autonomie come vertici politici come sindaci come governatori ma in realtà si dà un colpo ulteriore al principio autonomistico quindi siamo complessivamente ricostruendo questi processi che ho soltanto molto rapidamente provato a elencare in un momento molto debole dell'autonomia ma un momento che riflette anche delle caratteristiche tradizionali del sistema istituzionale italiano che non soltanto oggi accetta la combinazione di centralismo e utilizzando un termine un po forte che però si trova in letteratura per definire certi processi di rassismo locale cioè di presenza di rassi locali sul territorio a cui il centro concede la gestione di certi territori quello che invece credo debba essere riscoperto e però questo i segnali mi paiono abbastanza deboli è un ruolo più alto delle autonomie un ruolo come si diceva una volta delle regioni per la riforma dello stato delle autonomie per la riforma dello stato in grandi processi che hanno accompagnato la cultura amministrativa istituzionale di questo paese autonomia dei diritti dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione sono andati insieme e il momento in cui viviamo è un momento che ha bisogno di una fase di questo tipo cioè una fase in cui le autonomie si facciano portatrici di un bisogno che credo sia formidabile di processi decisionali del centro più leggibili più comprensibili dentro i quali le dinamiche di autonomia possono essere un momento di di svelamento di apertura rispetto a percorsi e processi che sono eccessivamente non soltanto centralistici ma molto spesso opachi vi cito un libro che non è un libro giuridico che con l'amico cortese mi diceva se vogliamo parlare dovremmo prenderlo sul serio provandolo a prendere sul serio questo libro io sono il potere io sono il potere ci racconta in termini non inverosimili o almeno non sono stati contestati per verosimiglianza le dinamiche decisionali di una serie di ambienti istituzionali romani se prendiamo sul serio quel libro oppure lo derubrichiamo semplicemente a gossip ma non soltanto a gossip che ci racconta in retroscena ma gossip non veritiero perché non succede così se non succede così nulla questi se riteniamo che succeda così allora abbiamo un problema di processi decisionali democratici abbiamo un processo decisionale che sfida la democrazia e sfida le autonomie che dentro quei processi decisionali che si sviluppa se si sviluppano in quel modo non sono presenti ecco la riscoperta del tema dell'autonomia non può non essere una riscoperta più complessiva dei temi della democrazia nel nostro paese perché i processi decisionali dentro i quali siamo collocati oggi sono processi decisionali enormi che condizioneranno per anni a venire come dire l'azione pubblica e privata e sono azioni che sono sviluppate confidiamo nel migliore modo possibile però senza che questo percorso sia stato leggibile a priori o lo sia nel suo svilupparsi o vi sia spazio di incidervi in università siamo in università pensiamo adesso a tutta la dinamica che su cui sono aperti questo giorno i bandi di questi partenariati per l'innovazione una dinamica enorme in cui in esito al quale noi avremo la produzione di un sistema universitario differenziato differenziato nella pratica cioè nella capacità di sviluppare iniziativa questo sistema si sviluppa sulla base di cosa sulla base di una decisione politica che colloca il polo di eccellenza nel campo delle nanotecnologie a milano piuttosto che a bologna sulla base di una valutazione di qualità e assumendosi una responsabilità o sulla base di un processo di cui non riusciamo e non riusciremo neanche posteriore a comprendere le dinamiche di sviluppo ecco tutto questo credo chiami in causa i territori e i cittadini sui territori quindi il tema di fondo che chiama in causa le autonomie speciali e le autonomie ordinarie è il fatto che il principio di autonomia è uno si tiene tutto insieme o è forte o è debole invece noi veniamo da una fase in cui tutto sommato le stesse autonomie hanno lavorato le une contro le altre accettando che come dire di portarsi in salvo le regioni rispetto alle province ad esempio i comuni maggiori rispetto ai comuni minori le regioni più ricche con la differenziazione rispetto alle altre regioni forse alcune regioni speciali più speciali delle altre rispetto alle altre regioni speciali ma in questo processo in realtà come i polli di renzo che venivano evocati anche questi quest'oggi ad essere indebolito al principio di autonomia e con il principio di autonomia tutte le autonomie salvo quelle piccole che in qualche modo trova riescono a trovare come di uno uno spazio a questo punto veramente di specialità positiva ma di una deroga che a qualcuno si può riconoscere sulla base di dinamiche che poi non riusciamo sempre a comprendere grazie siamo noi che ringraziamo sono noi che ringrazio professor Carloni non soltanto per essere stato perfettamente nei tempi cosa che in un pomeriggio denso è sicuramente gradita ma anche per come ha saputo ben tratteggiare sia la pars destroens diciamo quel quadro così preciso della distanza del regionalismo reale dal titolo quinto la scarsa qualità della legislazione regionale soprattutto ordinaria perché ci sono esempi molto poco commendevoli il fallimento del mito della regione leggera e quindi queste regioni pesanti in questi palazzi colossali pieni edifici amministrativi eccetera però anche per come da ottimo relatore qual è ha saputo chiudere diciamo apprende un orizzonte di speranza quindi non abbandonandoci nel pessimismo sul ruolo più alto che qui sono chiamate le autonomie e la riforma dei processi decisionali sul nessio tra autonomia e democrazia devo dire che ho apprezzato soprattutto la chiusa cioè l'idea che non ci si salva da soli se posso riassumere se ho compreso bene quindi è sicuramente una lettura evitare la guerra di tutti contro tutti ma cercare assieme le varienti le varie realtà territoriali italiane di realizzare pienamente il principio autonomistico cardine del nostro ordinamento repubblicano quindi direi che abbiamo come non potevamo probabilmente aprire meglio questo pomeriggio e quindi sempre diciamo in questa ottica di alta qualità io volentieri cedo la parola al professor corrado caruso dell'università di bologna che ringrazio naturalmente anche a nome dei colleghi trentini peraltro non è una novità qua a trento e quindi è gradita ancora una volta grazie grazie a Matteo al nostro presidente grazie agli amici Fulvio e Jens che hanno organizzato questa iniziativa in un momento importante per la regione speciale ieri a cena si diceva che cinquantennale dello statuto del secondo statuto speciale in questo territorio è secondo quanta importanza solo il 25 aprile quindi è un momento diciamo fondativo forse di più forse di più mettiamole allo stesso livello natale statuto d'autonomia e quindi insomma grazie per il coinvolgimento e grazie per avermi coinvolto in questo festeggiamento allora non c'è dubbio che questa è una è una sessione che queste sessioni sono state pensate anche per trarre un bilancio per disegnare un bilancio rispetto all'esperienza regionale italiana e per provare a identificare le prospettive che ci troveremo ad affrontare che il nostro regionalismo si troverà ad affrontare con il PNRR. PNRR anticipo già le conclusioni che non potrà probabilmente verosimilmente come già abbiamo visto nella sua prima attuazione che ripercorrere strade già battute per l'inadeguatezza delle nostre istituzioni del sistema multilivello. PNR in fondo introdotto e rischia di introdurre delle riforme senza riformismo cioè senza un'idea complessiva del governo di un sistema policentrico come il nostro. Ora per fare questo bilancio io credo che sia necessario distinguere innanzitutto una distinzione metodologica tra regionalismo e diritto regionale. Da un lato cioè il regionalismo come narrazione e dinamica della integrazione territoriale e dall'altro il diritto regionale come statica della distribuzione del potere territoriale quindi guardando il diritto regionale che guarda le forme. Noi non possiamo fare un discorso sulle forme del diritto regionale in particolare dopo il titolo quinto senza capire quali sono gli equilibri del regionalismo nelle diverse fase storiche del del paese. E allora proviamo a interrogarci sul regionalismo su quali sono state le dimensioni del regionalismo in questo paese negli ultimi negli ultimi anni. Dicevo prima il regionalismo che può essere inteso una duplice accezione. Il regionalismo come concezione complessiva come narrazione come ideologia inevitabilmente contingente della regione e il regionalismo come dinamica politico istituzionale dell'integrazione territoriale che può muovere a seconda del momento storico verso l'accentramento o verso la differenziazione. Queste due accezioni si sono inseguite nella storia repubblicana. Si sono incontrate spesso il regionalismo come narrazione o ideologia preceduto delle scelte che sono state poi fautrici di una certa concezione della dinamica di integrazione territoriale. Quindi su entrambe dobbiamo interrogarci e su dobbiamo fare, spendere qualche parole. Ora se noi andiamo a vedere il regionalismo come narrazione, insomma sono cose note. Noi abbiamo avuto in fondo il regionalismo garantista che è quello di matrice cattolica che concepiva le regioni essenzialmente come enti intermedi di valorizzazione del principio pluralista e che serviva soprattutto a costruire degli ambiti territoriali al riparo del potere centralista e quindi come garanzia di separazione dei poteri verticali. Questa eccezione è stata però abbandonata nel momento in cui si è avuto il disgelo regionale dove all'inizio degli anni, fino agli anni sessanta, all'inizio degli anni settanta comincia a sorgere l'idea che le regioni debbano essere intese in senso funzionale, cioè in termini di efficacia che avrebbe potuto portare il disgelo regionale nelle politiche pubbliche. Chiaro che dentro ci stavano cose molto diverse rispetto a questa concezione funzionalista. Ci stava lo slogan delle regioni per la programmazione socialista, per cui le regioni erano intri decentrati della macchina amministrativa statale. Ci stavano le regioni per l'unità, per cui comunista, per cui erano le regioni, non erano altro che dei laboratori per provare a riformare il paese nel suo complesso. E poi c'è l'ultima fase della narrazione del regionalismo, che è quella che ha dato vita poi al titolo quinto, che invece è il regionalismo identitario separatista. L'idea cioè che ogni sistema regionale potesse ambire a una vita, per così dire, separata rispetto al resto del paese, come appunto ente territoriale che identifica i valori di una comunità localmente situata anche in potenziale conflitto con quelli del resto del paese. Ora, queste narrazioni del regionalismo si sono poi inevitabilmente riverberati sul regionalismo come dinamica politica istituzionale. In fondo le regioni per la programmazione ha dato vita a quello che potremmo chiamare il regionalismo amministrativo, lo dicevo prima, enti decentrate, funzioni di indirizzo e coordinamento, negazione della politicità della regione come soggetto portatore di un indirizzo politico diverso e distinto rispetto a quello dello Stato centrale. Questa concezione è stata lentamente attenuata dopo il DPR 616, sotterraneamente cominciava ad affacciarsi con l'istituzione di PCM dell'83 della conferenza Stato-Regione del regionalismo cooperativo, ma che non ha mai attecchito, se non forse dopo la riforma del titolo quinto, lo dirò tra poco, ma per via giurisprudenziale, è un regionalismo cooperativo giudiziale, grazie appunto alle sentenze della Corte Costituzionale. Il regionalismo identitario, dall'inizio degli anni 90 fino alla riforma del titolo quinto, è passato da un accesso all'altro e si è passati appunto all'idea dell'autarchia in senso lato e non giuridica delle interregioni. Il titolo quinto inevitabilmente ha sofferto di questo tipo di regionalismo identitario. Ha provato senz'altro a dare dignità politica alle regioni, a espandere le competenze delle regioni, ma con un malinteso fondamentale, cioè che bastasse aumentare i poteri normativi delle regioni o le etichette dello Stato regionale per creare un regionalismo integrato ed efficiente. Viceversa, lo sappiamo tutti, l'esito è stato quello di rafforzare la separazione competenziale di Stato e regioni senza creare evidentemente dei contrappesi di governo del sistema regionale. L'emblema, il simbolo, ora non me ne vogliate, ma quello che io ritengo dal punto di vista normativo l'emblema di questo processo è l'articolo 114 della Costituzione. dove addirittura, che mette sullo stesso piano enti territoriali diversissimi, enumera lo Stato come se lo Stato fosse diverso dalla Repubblica, individua le regioni, nomina le regioni, nomina non solo comuni e province, ma addirittura un ente che esisteva solo nella testa di Giove, fino ad allora che era la città metropolitana. Quasi che tutti questi soggetti paritariamente potessero concorrere a stipulare il FEDUS, il Patto Costituzionale del Sistema Territoriale Integrato. Nullo di più sbagliato e la giurisprudenza costituzionale poi la più volte sottolineato. Non solo, non ci sono strumenti, lo sappiamo bene, per l'assunzione di decisioni unitari, c'è il potere sostitutivo, il 120, ma il 120 non è altro che un contrappeso istituzionale al principio di sussidiarietà e quindi non assicura evidentemente l'assunzione di decisioni politiche unitarie. C'è l'esplosione puntinistica delle competenze esclusive statali, che non poteva che rendere un miraggio la clausola di residualità, lo stesso articolo 117 della Costituzione. C'è l'elencazione di competenze concorrenti tra Stato e Regioni, che oggi, a leggerle adesso, sembra uno sberleffo della storia, perché vedere la produzione e il trasporto dell'energia, competenza concorrente tra Stato e Regioni, ecco, solo un grandissimo pangloss avrebbe potuto formulare questa competenza concorrente. Ora, il regionalismo identitario, in una paradossale eterogenesi dei fini, in questa confusione sistemica scritta dal titolo V, ha portato a quello che io ritengo essere oggi il tratto caratterizzante, ci sarà una sezione come ci vedono gli amici dell'estero. Io gli suggerirei che se vogliono capire come funziona lo Stato regionale, in italiano non devono guardare la Costituzione, ma devono trovare un buon bignami della giurisprudenza, consultare un buon bignami della giurisprudenza costituzionale, perché è l'unico modo per rileggere le relazioni tra Stato e Regioni. La Corte Costituzionale, con una giurisprudenza creativa, Bagliori Costituenti, diceva Andrea Morrone in uno scritto di qualche tempo fa, ha riscritto il titolo V. E l'ha riscritto in una duplice direzione. Per un verso, le materie trasversali sono diventate delle clausole di supremazione implicita. Tra l'altro, creando una duplice barriera all'autonomia regionale, non solo in entrata, per così dire, al momento dell'esercizio della funzione legislativa statale, ma anche in uscita, attraverso la valorizzazione, nella catena verticistica tra Stato ed enti locali, appunto, con gli enti locali. Pensate alla competenza legislativa esclusiva delle funzioni fondamentali, no? Che viene assegnata allo Stato. Attraverso l'identificazione di questa competenza, attraverso l'identificazione entificata delle funzioni, le regioni praticamente hanno le mani legate rispetto alla possibilità di ridistribuire, alla luce delle condizioni dei loro territori, le funzioni nel tessuto regionale. C'è una sentenza di qualche tempo fa, della Corte Costituzionale, la 179 del 2019 in materia di governo del territorio, che sostanzialmente, giocando proprio sul ruolo dei comuni nella pianificazione territoriale, lega le mani alle regioni dicendo ma lì la regione non può intervenire, stabilendo tra l'altro la limitazione del consumo di suolo, perché incide su una funzione essenziale, fondamentale dell'ente locale, il comune di Brescia aveva approvato una variante al piano urbanistico comunale e quindi il comune può ben approvare questa variante anche se la legge regionale ha stabilito che in attesa di ridiscutere il piano regionale si fossero bloccati, dovessero essere considerati implicitamente sospesi i procedimenti amministrativi di aggiornamento dei piani locali. Quindi, in qualche modo, bloccando sostanzialmente la discrezionalità politica della regione. Ma il capolavoro più grande che la Corte Costituzionale ha fatto è sulla manipolazione della leale collaborazione. Carlo Mezzanotte pensava di aver trovato l'uovo di Colombo con la chiamata in sussidiarietà, ebbene, alla luce di una ventennale giurisprudenza costituzionale, quella, l'ipotesi stabilita e descritta dalla 303 non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché ha moltiplicato gli oneri procedurali per la decisione politica nazionale. Si è rivelato un criterio instabile, eccessivamente instabile e mutevole dal punto di vista pretorio e giurisprudenziale, oscillando di volta in volta e a seconda dei cicli giurisprudenziali magari inaugurati dal singolo giudice compotente del collegio, tra intese forti, intese deboli, sul momento dell'intesa, a valle o a monte del procedimento legislativo, sui luoghi della concertazione, conferenza unificata, conferenza Stato-Regioni. Tra l'altro anche inefficace come criterio perché ha portato a una costituzionalizzazione di fatto delle conferenze che noi sappiamo bene oggi presentano molti, molti, molti difetti. Innanzitutto, come sappiamo, lo ricordo, Fulvio Cortese si è occupato tante volte, ce l'ha ricordato in diverse occasioni, le conferenze operano dentro l'apparato amministrativo statale, sono dedicate all'attuazione amministrativa piuttosto che alla programmazione e alla decisione normativa, sono opache e sopportate, non promuovono istanze di differenziazione, perché le conferenze Stato-Regioni in realtà non sono altro che il luogo e la cassa di risonanza di due posizioni, la posizione del governo e la posizione del presidente della conferenza delle regioni, che agisce come rappresentante corporativo degli interessi che vengono sublimati e sintetizzati nella conferenza delle regioni dove inevitabilmente non emergono le differenziazioni territoriali, ma lo fa da padrone la regione o le regioni che hanno il peso politico maggiore, il peso politico più rilevante. Ora, concludo sul punto, e poi in quattro minuti concludo tutto l'intervento, quindi l'assicuro a Matteo, questi criteri hanno contribuito inoltre, e questa giurisprudenza si è rivelata anche eccessivamente rigida, perché appunto attrazioni in sussidiarietà o in treccio facevano scattare automaticamente questi oneri procedimentali, e allora è inevitabile che quando il sistema rischiava l'implosione, la Corte non ha richiamato la clausola, l'ha chiamata in sussidiarietà, ma si è appoggiata al profilassi internazionale quando il sistema rischiava di saltare, perché doveva liberarsi, come lo zi di Ima della favola di Pirandello, dalla giara che si era costruita attorno e fondata su ioneri procedimentali conseguenti alla reale collaborazione. Come si fa a salvare il sistema in un momento di emergenza? Trovo una competenza, prova a ricostruirla, perché, scusate, Augusto Barbera gli vogliamo bene, ha provato a costruirla in termini oggettivi, nonostante qualcuno dica che è stata una trasversalizzazione della competenza della profilassi internazionale. Trovo un titolo di competenza, esclosiva, provo a ricostruirla in termini oggettivi e faccio salvo l'impalcatura e la gestione dell'emergenza. Inevitabile era quella sentenza, era inevitabile, non si poteva che adottare quel tipo di sentenza. Ora, la pandemia però, non è, temo e credo, che quella sentenza sulla pandemia non potrà essere isolata, non è legata solo al momento emergenziale, perché questa idea delle competenze esclusive come Trump-Cards saranno di nuovo, sarà di nuovo, e ritornerà di nuovo ora col PNRR, perché in un ambito dove in realtà le funzioni dei livelli di governo sono strettamente intrecciate, basta leggere velocemente le missioni del PNRR per capire che dentro c'è di tutto, c'è di tutto, Stato, Regioni, enti locali, la dinamica che il PNRR segue, che la governance del PNRR segue, è una dinamica evidentemente centralistica con gli enti regionali che sono tornati, come nella pandemia, e come era alla fine degli anni Sessanta, degli enti decentrati delle scelte deputate, delineate dal centro. Le regioni sono ormai enti decentrati, soggetti attuatori della disciplina posta dello Stato, e per far salvo tutta questa disciplina, temo che la Corte dovrà fare ancora ricorso alle competenze esclusive e al cilindro, diciamo, delle competenze esclusive. Con, appunto, una funzione di indirizzo e coordinamento reddiviva, sembrerebbe porre il Decreto Legge 77 del 2021. Ora, di fronte a tutto questo, quindi, cosa possiamo fare? Qual è la frontiera e qual è la prospettiva? In parte oggi, stamattina, già sono state enunciate alcune linee di ricerca e anche, in realtà, delle posizioni che credo la comunità accademica che studia il diritto regionale non può non fare proprio. Innanzitutto, ritornare all'idea di un regionalismo politico, o meglio, provare, dopo il regionalismo amministrativo, dopo il regionalismo giudiziale, ad affermare un regionalismo politico. Cosa voglio dire? La questione istituzionale in Italia oggi è la madre delle questioni, cioè è necessario trovare la sede per innestare, è stato detto oggi, va ribadito, le esigenze di differenziazioni nelle decisioni unitarie. È necessario, quindi, trovare un luogo di decisione politica centrale che favorisca, però, trasparenza dei meccanismi decisionali, assunzione di responsabilità politica dei livelli di governo, innesto, come dicevo prima, degli interessi territoriali negli indirizzi generali della comunità nazionale, legittimati dal corpo elettorale. Ora, qual è la formula, la forma, per dare, che può contenere questa idea? Dovremmo organizzare, probabilmente, un altro convegno, ma l'orizzonte non può che essere quello, così come non può che essere l'abbandono, in prospettiva, di riparti statici di competenze. Cioè, l'idea della, quantomeno per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, grazie al titolo quinto, prova a parafrasare Carlo Mezzanotte. Carlo Mezzanotte, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e della Corte Costituzionale, quando la Corte Costituzionale ha cominciato col giudizio di ragionevolezza ad andare oltre lo schermo della legge, valorizzare, quindi, i diritti che erano compressi dentro l'uniforme di trattamento normativo, ha detto, beh, sapete forse cosa vi posso dire oggi, provocatoriamente? Che forse, grazie alla creazione della Corte Costituzionale, non ci sarebbe bisogno di una dichiarazione dei diritti. E così forse, e provo a chiudere con questa provocazione, forse oggi potremmo dire che se avessimo una sede politica di decisioni dove potessero partecipare anche gli enti territoriali, in particolare le regioni, dove si ragionasse di funzioni piuttosto che di astratte competenze tagliate con l'accetta, oggi forse non ci sarebbe, appunto, non sarebbe più necessario porci il problema in astratto di chi fa cosa. Chiudo qui, anzi, grazie per l'attenzione. Grazie a te, Corrado, grazie al professor Caruso per questa relazione, diciamo, di indubbiamente brillante che ha saputo anche così ricostruire l'evoluzione del nostro regionalismo da un regionalismo ideale, immaginato, impara di capire che forse è quel regionalismo che ha fatto innamorare del diritto regionale che di noi l'ha studiato per tanti anni, cioè questa visione un po' idealizzata del regionalismo è il regionalismo reale, in effetti è ben diverso e oggi basato anche fortemente sulla giurisprudenza costituzionale che ci dà la Costituzione vivente sostanzialmente nelle relazioni tra Stato e Regione e nelle competenze regionali. Capisco anche diciamo il giudizio sulla 37, sulla 37, sulla sentenza 37 se posso aggiungere l'azione Loci è tanto più significativa considerando che riguarda una regione autonomia speciale e c'è anche qualche passaggio piuttosto sferzante come tu saprai meglio di me sulle disposizioni statutarie che vengono spianate il giudice sta spianando e non si fa problemi a spianare anche questa anche la specialità. Segnalo, ma lo sapete tutti benissimo che per una delle curiosità della storia e della specialità esiste una legge bolzanina di contenuto analogo che non è stata impugnata e come vedo che vige tuttora serenamente però questa fa parte diciamo della specialità e della differenziazione tra speciali. Condivido la chiusura probabilmente davvero il recupero del giurismo politico forse potrebbe essere la chiave forse il ragionalismo immaginato che piaceva alla mia generazione da giovani era anche un ragionalismo politico cioè bene o male da lì si partiva quindi autonomia responsabilità politica. Grazie, grazie davvero e adesso continuiamo abbiamo la relazione della professoressa Barbara Guastaferro della Federico II di Napoli che ringrazio vivamente della sua partecipazione. Grazie infinite chiaramente al presidente e agli organizzatori di questo evento per l'invito e anche devo dire per la generosissima ospitalità e anche io chiaramente muovo avendo avuto piena libertà diciamo nella preparazione della relazione muovo come tutti gli altri da una considerazione che emerge dalle tantissime riflessioni di autorevoli studiosi di diritto regionale che si sono cimentati nel tracciare un bilancio sulla riforma del titolo quinto a distanza di vent'anni e considerazione che appunto Gian Domenico Falconna in un recente appunto scritto proprio sullo Stato delle Regioni ha ritenuto essere abbastanza condivisa ossia insomma il fatto che il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni ha visto a distanza di vent'anni ripristinare una netta supremazia statale quindi in piena continuità con il titolo quinto originario la legge statale mantiene senza essere troppo disturbata dall'ufficiale necessità di un titolo specifico la sua capacità di intervenire in qualunque ambito materiale laddove la legislazione regionale resta in qualche modo circoscritta da ambiti ristretti ora il fatto che la legislazione statale abbia mantenuto per così dire la propria sporgenza sovrana è dovuta secondo appunto Falconna ma secondo molti altri anche a questa diciamo formidabile opera razionalizzatrice della Corte Costituzionale ed è proprio appunto sul sul ruolo di quest'ultima che vorrei concentrare la mia relazione provando ad indagare le ragioni per cui il nostro diritto regionale sia stato così pervaso appunto da quell'opera che felicemente Andrea Morrone ha definito di riscrittura del titolo quinto ci sono certamente almeno tre ragioni cioè c'è un motivo di natura strutturale uno di natura teorica e un altro per così dire congiunturale il motivo strutturale è legato per certi versi al tessuto costituzionale di tutti gli ordinamenti composti cioè le corti costituzionali sono degli attori fondamentali nella custodia della struttura tensiva degli ordinamenti composti che sono permanentemente alla ricerca di un equilibrio sostenibile tra unità e pluralismo non è un caso che nella magistrale opera di Mauro Cappelletti dedicata al judicial process in prospettiva comparata tanto il costituzionalismo quanto il federalismo vengono considerati le driving forces cioè i fattori trainanti e nello stesso momento legittimanti del judicial review of legislation cioè in altri termini una divisione del potere una moltiplicazione dei luoghi della produzione normativa necessariamente chiede un ruolo arbitrale del potere giurisdizionale in grado di invalidare la legislazione che sorbiti dalle proprie sfere di competenza questo è un dibattito che in assemblea costituente ad esempio ovviamente fu posto cioè nel momento in cui cambiamo il nostro tipo di stato da unitario a unitario regionale qualcuno si pose il problema che le libertà e le facoltà delle regioni dovessero venire imprescindibilmente contemporate ed armonizzate da un organo adeguato il quale non può essere ci dicono gli atti dell'assemblea costituente come pensano alcuni il solo parlamento nazionale perché questo vorrebbe dire svilire l'autonomia regionale né tantomeno la magistratura ordinaria e mi ha colpito molto il passaggio dell'onorevole Paolo Rossi che nel rispondere al più agguerrito nemico della Costituzione della Corte Costituzionale considerata goffa inutile e certamente più consona ad ordinamenti di impostazione federale e non unitaria che era appunto Nitti Paolo Rossi si sofferma dicendo dice l'onorevole Nitti abbiamo in Italia le regioni non degli stati federati vogliamo o tolleriamo a malicuore le regioni non vogliamo che si creano degli stati federati Rossi risponde mi consenta l'illustre statista è appunto perché le regioni non diventino stati non minaccino di diventare stati che si presenta l'imperiosa necessità di istituire una Corte Costituzionale che possa giudicarne l'attività e frenarne eventuali impulsi a porsi come enti sovrani qui quindi viene in luce il secondo motivo per cui si ravvisa il protagonismo della Corte Costituzionale che il motivo è quello appunto di soddisfare l'esigenza teorica di garantire la tenuta unitaria dell'ordinamento in altri termini se c'è un custode della Costituzione questo custode deve in qualche modo anche salvaguardare il tipo di Stato e il suo solito ancoraggio al principio di unità e su questo chiaramente sappiamo che la Corte Costituzionale è stata maestra cioè non solo nel definire extraordine alcune rivindicazioni indipendentistiche ma anche nel mettere a bando tutti i tentativi sia di parcellizzazione del popolo che di frammentazione della sovranità mi riferisco chiaramente ai filoni giurisprudenziali sulla possibile lessività costituzionale dei referendum consultivi regionali oppure a quel filone di sentenze che io attribuisco diciamo per così dire al cosiddetto mimetismo lessicale cioè quei tentativi in cui le regioni hanno provato ad utilizzare un lessico parastatale per qualificare organi della regione provando a definire ad esempio i consigli di regione di parlamenti e così via cioè filone giurisprudenziale che trova probabilmente il proprio compimento teorico nella sentenza 365 del 2007 relativa alla legge della regione Sardegna che istituiva una consulta incaricata di redigere un progetto organico di nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo qui la corte ci ricorda che utilizzare indistintamente il concetto di autonomia e di sovranità insieme equivale in realtà giusto a porre due concezioni tra loro radicalmente differenziate sia sul piano storico che sul piano logico quindi cosa fa la corte costituzionale insiste sulla dicotomia stato federale stato regionale nei suoi inessi oppositivi e la finalizza alla tutela del principio di unità cioè per negare una sorta di sovranità parziale della regione ricorre strumentalmente ad una dicotomia che sembrava anche ampiamente superata a dire il vero in dottrina cioè quella tra stato regionale e stato federale e la fonda sul carattere sovrano e questo è il caso degli stati federali e non meramente autonomo e questo è il caso degli stati regionali degli enti territoriali minori in tal modo fondamentalmente la corte sembra sostenere che sovrano è solo ed esclusivamente lo stato ente originario mentre autonomo è l'ente derivato ricalcando in modo nemmeno tanto velato la tesi appunto di santi romano per cui l'autonomia è istituto che non solo deve riferirsi anche agli ordinamenti non originari ma che riguarda principalmente se non esclusivamente gli ordinamenti non originari quindi derivati il terzo motivo che in qualche modo spiega il protagonismo della corte costituzionale nel tessere le trame del nostro regionalismo è invece un motivo di natura cioè più congiunturale che anche questo conosciamo tutti cioè l'assenza di adeguati meccanismi di prevenzione del conflitto che chiaramente ha richiesto alla corte quello che il presidente zagrezbeschi definì anni fa questo ruolo di supplenza non richiesta e non gradita perché sappiamo tutti che il contenzioso costituzionale si è esploso fondamentalmente proprio dopo la riforma del titolo quinto che in un sol colpo abolisce abolisce il limite dell'interesse nazionale e contestualmente il controllo preventivo sulle delibere regionali che per quanto lesivo dell'autonomia anche nella manualistica è comunque considerato uno strumento di prevenzione del conflitto e allo stesso tempo la riforma del titolo quinto come sappiamo potenzia il momento della self rule quindi fa crescere a dismisura le competenze regionali senza preoccuparsi del momento della shared rule quindi di creare dei meccanismi di raccordo e questo chiaramente ha creato molta pressione sulla corte costituzionale da questo punto di vista faccio solo una rapidissima digressione il Regno Unito oggi è un laboratorio interessantissimo perché dopo oltre vent'anni di evolution gestiti out of courts fondamentalmente il dissenso tra Parlamento di Westminster e the vote legislature sul recesso ha alterato il buon funzionamento dell'unico meccanismo di raccordo che è tra assemblee legislative che è la Siu e il Convention e sta dando vita ad un intenso ed inedito contenzioso costituzionale dinanzi alla corte suprema quindi è chiaro che in assenza di una sede di neutralizzazione politica del conflitto le corti vengono investite di questo ruolo ora di fronte a questo però la corte cosa ha fatto non è comunque stata con le mani in mano cioè la sentenza 303 del 2003 comunque pesca un po' quello che c'è cioè il principio di leale collaborazione e il sistema delle conferenze perché deve risolvere il problema di una neutralizzazione politica del conflitto che non c'è quindi quando appunto sappiamo che la corte va a sublimare la flatus pluralista della leale collaborazione e individua nella proceduralizzazione dell'intesa il meccanismo compensativo alle dinamiche di accentramento statale ora per quanto appunto poi nella prassi abbia funzionato non abbia funzionato questo insomma lo sappiamo però il fatto che la corte abbia comunque stabilito e precisato che un'eventuale incursione dell'attività statale nelle materie di competenza regionale può aspirare a superare il vaglio di legittimità solo in presenza di meccanismi cooperativi è comunque un monito importante cioè è un invito molto molto incisivo alla cooperazione se noi comunque consideriamo che siamo molto lontani da un contesto come quello che c'è ad esempio nella Costituzione Svizzera o in quella sudafricana che addirittura prescrive il previo esaurimento dei rimedi consensuali prima di arrivare alla Corte Costituzionale noi siamo comunque in un contesto dove il modo in cui opera la dialettica tra unità e autonomia è ampiamente decostituzionalizzato cioè non formalizzato e lasciato alla volontà delle parti quindi è per certi versi comunque la Corte Costituzionale che si rende conto delle crepe del cosiddetto Entitlement Approach quindi della separazione rigida e duale degli elenchi esposta il nostro regionalismo a quello diciamo invece tipico del Fidelity Approach quindi quello cooperativo utilizzo diciamo due celebri categorie di Daniel Albert in un lavoro sul Virginia Law Review sulla Public Morality degli Ordinamenti Federali quindi comunque è la Corte che sublima il principio di realtà e crea gli strumenti operativi per implementarlo a partire da tutta quella serie di decisioni processuali le manipolative sostitutive le additive di procedura con cui appunto si dichiara illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede l'intesa rispetto diciamo a questo quadro cosa c'è diciamo sul campo in primo luogo un disegno di legge costituzionale presentato nel maggio del 2020 che fondamentalmente va a fotografare l'assetto della sentenza 303 del 2003 probabilmente proprio per ovviare a tutte quelle sorture di cui parlava Corrado cioè riproporre per la via principale della revisione costituzionale questo meccanismo compensativo tra unità e pluralismo perché questo disegno di legge costituzionale ha soli due articoli uno è volto ad introdurre la clausola di supremazia no Parrini Pinotti eh vabbè senato senato sì no no sì 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 allora quindi uno un articolo prova a reintrodurre la clausola diciamo di supremazia nell'articolo 117 e l'altro articolo nella presentazione si legge proprio che per evitare che la clausola di supremazia abbia curvature centraliste e allora si propone con un 116 bis anche la costituzionalizzazione del sistema delle conferenze quindi da una parte c'è la codificazione di un assetto che chiaramente ha anche un intento di prevenzione del conflitto perché questa è una revisione costituzionale che in qualche modo è figlia della pandemia cioè si viene nasce in un momento in cui si è sentito fortemente il bisogno di mantenere in capo al legislatore statale la capacità di formulare attuale politiche pubbliche strategiche ma anche viene in un momento in cui il tasso di conflittualità tra Stato e Regioni è esploso e quindi cosa si fa? Cioè la clausola di supremazia il presunto novellato articolo diciamo 117 dispone che la legge dello Stato può disporre nelle materie non preservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale su proposta del governo previo parere della conferenza Stato e Regioni quindi comunque per attivare la clausola di supremazia è necessario a sua volta il momento cooperativo dall'altro lato cosa è sempre appunto sul campo la proposta di introdurre una direttiva che possa razionalizzare l'attività ministeriale connessa all'eventuale impugnazione dinanzi alla corte costituzionale delle leggi delle regioni e delle province autonome volta in qualche modo alla deflazione del contenzioso che è allo studio della commissione contenzioso costituzionale istituita presso il dipartimento degli affari regionali della presidenza del consiglio dei ministri di cui ho l'onore di far parte insieme ad altri diciamo colleghi costituzionalisti come in ordine rigorosamente alfabetico e non di simpatia Corrado Carruso Elisabetta Lamarca e Gino Scaccia allora cioè quello che sono timida allora diciamo che guardando ai dati del 2020 tecnicamente l'84% delle pronunce rese dalla corte costituzionale in via principale riguarda impugnazioni da parte dello Stato di queste 79 impugnazioni da parte dello Stato 21 quindi quasi diciamo un quarto dispongono l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso da parte dello Stato e in molte occasioni chiaramente le regioni questo avviene perché le regioni o le province autonome vanno ad abrogare o a modificare le disposizioni oggetto di impugnazione in pendenza del giudizio dinanzi alla corte costituzionale e voglio dire questo va quasi a ribaltare l'ordine sia logico che cronologico tra prevenzione politica del conflitto e risoluzione giurisdizionale dello stesso perché fondamentalmente è l'impugnativa a fungere da deterrente e ad innescare o a potenziare il meccanismo collaborativo che invece dovrebbe avere una funzione di prevenzione del conflitto ex ante quindi diciamo il tentativo è quello di razionalizzare l'attività potenziando una cosa che già esiste cioè quella della trasside di impegni che però diciamo fa rilevare un dato abbastanza sconfortante cioè che guardiamo sempre i dati tra il duemilaquindici e il duemilaventi gli impegni che vengono assunti dai presidenti delle giunte regionali con il il dipartimento affari regionali il più delle volte con cui appunto spesso il dipartimento rinuncia all'impugnativa in virtù di questo impegno preso sfociano in in ottemperanza nel 49% dei casi e questo chiaramente è un classico esempio di collaborazione sleale perché se nel frattempo il presidente non rispetta l'impegno il governo non è impugnato se decorrono i termini di cui all'articolo 127 della Costituzione che sono abbastanza astringenti resta viva nell'ordinamento la legge regionale potenzialmente incostituzionale conclusioni tornando appunto al perché e al ruolo diciamo della funzione giurisdizionale nel plasmare il nostro diritto regionale la prima conclusione è che il protagonismo della corte è appunto lo dicevo fisiologico non è nemmeno un unicum del diritto comparato questo scollamento che noi viviamo tra dato testuale e dato reale se noi ad esempio guardiamo i criteri di allocazione delle competenze di Stati Uniti ed Australia sono molto molto in qualche modo meno centralisti dell'assetto scelto dal Canada ma poi la giurisprudenza costituzionale è completamente ribaltato alla situazione reale quindi diciamo nell'analizzare la postura della nostra corte costituzionale nella gestione ordinaria delle tensioni tra unità e pluralismo è chiaro che come tutte le corti vive diciamo un modo che oscilla tra i due poli e che è certamente permeabile ai mutamenti anche storici del tipo di Stato questo però è in qualche modo comune anche ad altri ordinamenti è innegabile non voglio fare il difensore della corte costituzionale è ovvio che in tutti i momenti di crisi la corte finisce per diventare il custode Augusto Barbera direbbe improprio della tenuta unitaria dell'ordinamento ed è un dato di fatto che appunto l'acuirsi delle spinte centripede della nostra corte costituzionale ha rappresentato o una risposta all'inasprirsi della crisi finanziaria che quindi ha sacrificato le ragioni dell'autonomia o una difesa dell'unitorità ordinamentale di fronte a instanze indipendentistiche extraordine o ancora una risposta al caos normativo dettato dalla pandemia che appunto nella gestione della pandemia che la consulta come sappiamo di recenti ha centrato in capo allo Stato con la sentenza sulla profilassa internazionale quindi per concludere è chiaro che queste innumerevoli tendenze centripede hanno fondamentalmente trasformato il potere giurisdizionale da quello che diciamo Alexander Hamilton aveva definito il least dangerous branch per convincere gli antifederalisti ad accontentarsi di una corte suprema diciamo ma dai ma non è poi così pericolosa perché non ha potere sulla sulla moneta e sulla spada quindi è vero che probabilmente il ruolo delle corti costituzionali si è trasformato dal least dangerous branch al vero e proprio guardiano della tenuta unitaria dell'ordinamento l'auspicio finale di questa relazione che l'attività diciamo delle corti possa sempre informarsi al paradigma pluralista proprio del nostro ordinamento alla luce del quale per concludere con le parole di Rezio Crisafulli lo stato ordinamento non può confondersi con lo stato governo allo stesso modo in cui il cerchio non può confondersi con il suo centro grazie alla professoressa Guastaferro per questa ampia interessante relazione apprezzabile in tutti i suoi passaggi devo dire anche all'inizio quando citavi il dibattito costituente tra Paolo Rosso e Francesco Sabelio Nitti sono momenti in cui si respira rispetto a certe volte al livello meno alto del dibattito attuale quindi ogni tanto andare alle radici fa piacere e poi anche per come si è stata tutto sommato l'assicurante cioè questa funzione di razionare che è quello che il giurista forse deve fare oltre che buttare pennellate di pessimismo questa funzione di questa corte che razionalizza armonizza sistematizza diciamo in fondo è quello che forse il giurista stesso dovrebbe fare cioè dare una lettura che alla fine razionalizza fenomeni che altrimenti verrebbero visti come contraddittori ci hai dato veramente una linea una linea di lettura e poi diciamo il disegno di legge costituzionale c'è canzio sostanzialmente come punto sì sì no ma per carità come come punto di di chiusura cioè come ulteriore razionalizzazione di quello che della giurisprudenza costituzionale sostanzialmente che tra l'altro consentirebbe di porre un punto fermo diciamo perché poi i giudici costituzionale cambiano quindi la riprendenza d'accordo potrebbe anche anche cambiare ho capito apprezzato anche la distinzione tra autonomia e sovranità sottolineo in questa sede che cioè nella logica delle specialità questa dicotomia talora si è rivelata pericolosa perché chiaramente schiaccia schiaccia la specialità sulle regioni ordinarie come ben sa ad esempio la regione Sicilia a partire mi pare vado a memoria dalla sessantasei del mil novecentosessantaquattro l'assemblea regionale siciliana è ben altro è ben meno molto meno di un parlamento figuriamoci la Sicilia è solo autonoma lo stato sovrano il che per carità certamente direi che nella logica delle speciali bisogna stare un po' attenti che diciamo questa la dicotomia non tra regioni ordinarie e regioni speciali forse la cento andrebbe posto più sull'aggettivo qualificativo che su sostantivo almeno la mia voce di vedere però per carità grazie perché è veramente una sistematizzazione a mio avviso veramente necessaria in questa sede a questo punto noi dovrebbe io sono un po' coavezzo alla tecnologia ma dovrebbe apparire magicamente il professore Alessandro Morelli sì sono qui Matteo ciao buon pomeriggio a tutti ciao basta evocarlo basta evocarlo però non ti vede una voce sì grazie oh perfetto grazie Alessandro scusa colpa colpa mia che non ti vedevo ancora quindi grazie della tua partecipazione autorevole graditissima sei anche tu un amico di Trento quindi un'altra occasione per averti tra noi sebbene diciamo remotamente però ti vediamo credo meglio di come ti vedremmo se fossi in questa sala grazie a vari apparati tecnologici molto più grande soprattutto di come ti vedremmo molto non so se sia un vantaggio questo quindi perfetto e niente molto volentieri Alessandro ti cedo la parola grazie grazie ancora di cuore della tua presenza grazie buon pomeriggio a tutti ringrazio innanzitutto gli amici dell'Università di Trento per il graditissimo invito a questo prestigioso prestigioso convegno al quale partecipo molto volentieri anche se solo da remoto dico subito che l'oggetto del mio intervento della mia relazione sarà il regionalismo meridionale o meglio la condizione delle regioni meridionali tra pandemia e prospettiva di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza tema centrale perché come è noto la riduzione del divario socio-economico tra nord e sud come si esprime il PNRR nodo storico dello sviluppo del paese è una delle priorità trasversali fondamentali del PNRR la riduzione del divario di cittadinanza insieme alle politiche per i giovani e le politiche per le donne si prevede come sappiamo un investimento di non meno il 40% delle risorse territorializzabili del PNRR nelle otto regioni del mezzogiorno e si tratta come evidente di un'opportunità straordinaria che però rischia se non di andare persa comunque di non essere pienamente colta a causa sicuramente di una serie di carenze strutturali carenze della capacità amministrativa degli enti regionali e degli enti locali del meridione carenza della capacità progettuale carenze strutturali sulle quali pesano peraltro dei probabilmente dei limiti consistenti in preorientamenti e pregiudizi ideologici che hanno sempre inciso sull'approccio alla cosiddetta questione meridionale ora ovviamente qui in premessa non posso soffermarmi ampiamente e approfonditamente sui termini di un di un amplissimo dibattito storico economico e sociologico sulla questione meridionale mi limito però soltanto a osservare riprendendo una distinzione di Emanuele Felice che il ventaglio delle spiegazioni delle argomentazioni intorno ai fattori alle cause della condizione di grave cronico disagio socio-economico del meridione è davvero molto ampio e proprio perché anche segnato anche nel dibattito scientifico da marcati preorientamenti si va da posizioni più o meno marcatamente accusatorie nei confronti dei meridionali a ricostruzione anch'esse più o meno radicalmente assolutorie dice Emanuele Felice da una parte si è spiegata la condizione di cronico disagio socio-economico del sud Italia sulla base di una presunta diversità di volta in volta etica culturale addirittura genetica delle popolazioni meridionali rispetto a quelle settentrionali in questa categoria ad esempio rientrano le tesi estremiste di Richard Lynn che fa riferimento addirittura a presunte differenze nel quotiente intellettivo delle diverse popolazioni sia concezioni più moderate come quella di Robert Putnam che dipendendo la categoria del familismo amorale di Edward Banfield ha sostenuto che lo scarso sviluppo del mezzogiorno sarebbe di peso dalle carenze del capitale sociale dal mancato radicamento di valori civici dalla resistenza dei meridionali a cooperare con persone strane al perimetro della propria cerchia familiare dall'altro lato sul versante opposto si collocano invece quelli che propongono delle spiegazioni tendenzialmente giustificazioniste facendo riferimento a fattori per nulla dipendenti o solo in misura molto limitata dipendenti dalle popolazioni meridionali come le condizioni geografiche svantaggiose ad esempio in questo senso vanno le analisi di Paolo Malanima e Vittorio Daniele o lo sfruttamento che in meridione avrebbe subito da parte delle popolazioni settentrionali questa è una tesi che già a suo tempo era stata sostenuta da una parte della storiografia di ispirazione marxista ma anche da liberali come Nitti e Romeo ci sono poi anche spiegazioni intermedie e spiegazioni più moderate come quella dello stesso Emanuele Felice la risposta socio-istituzionale secondo cui le maggiori responsabilità andrebbero alle istituzioni politiche meridionali alle classi dirigenti meridionali in tutti i livelli territoriali di governo che non sarebbero state sufficientemente inclusive avrebbero alimentato una appunto il clientelismo e avrebbero soprattutto incoraggiato una visione attendista rinunciataria da parte delle giovani generazioni ora appare evidente che la scelta di una o dell'altra spiegazione delle conseguenti soluzioni proposte orienta anche l'approccio agli interventi relativi alla cosiddetta questione meridionale probabilmente la realtà è più complessa e la condizione di divario socio-economico nord-sud dipende da tante diverse concomitanti cause ora se guardiamo alla situazione attuale possiamo dire che certamente lo scoppio della pandemia non ha avuto luogo in una fase di espansione economica né in una situazione di particolare favore per le regioni del sud nel 2019 l'Italia era complessivamente più povera e diseguale di dieci anni prima e la simmetria tra nord e sud era ravvisabile in tutti i settori nel settore del tessuto produttivo nel settore della pubblica amministrazione anche perché i disinvestimenti del settore pubblico che avevano caratterizzato le politiche del rigore degli anni precedenti avevano avuto ovviamente un effetto destrutturante molto più forte nel mezzogiorno il punto è che si era diffusa e probabilmente ancora radicata l'idea che il problema non sia quello di investire nel mezzogiorno non sia la carenza di risorse finanziarie ma sia ancora una volta una serie di carenze riguardanti il capitale sociale riferimenti in questo senso ad esempio si ritrovano nelle linee guida del master plan per il mezzogiorno che fu approvato il 6 novembre del 2015 in cui chiaramente si diceva che il problema non erano le risorse non erano le risorse che mancavano ma appunto il modo in cui queste risorse venivano utilizzate o non venivano utilizzate in realtà diversi studi hanno dimostrato che questa supposta sovrabbondanza di risorse pubbliche a favore del mezzogiorno non ci sarebbe stato o comunque si sarebbe sensibilmente ridotta negli ultimi anni e invece si riscontrerebbe una sistematica declinante minore dotazione pro capite di spesa al sud rispetto al resto del paese sta di fatto che le carenze strutturali le carenze della capacità delle capacità amministrative degli enti degli enti territoriali oggi pesano notevolmente anche sulle prospettive di attuazione del piano nazionale di ripresa e residenza che pure questa realtà prende in considerazione e nei confronti della quale prevede una serie di misure e cronaca di questi giorni i due bandi PNRR del ministero per la transizione ecologica sull'economia circolare uno di un miliardo e mezzo per gli enti locali l'altro da 600 milioni per le imprese che avevano una scadenza a metà febbraio sono stati prorogati a metà marzo perché le domande progettuali che sono arrivate coprivano soltanto un miliardo e 600 milioni mancavano progetti per i restanti 500 milioni e soprattutto mancavano i progetti delle amministrazioni e delle imprese del mezzogiorno di qui la decisione del ministro Cingolani di spostare i termini a metà marzo al 16 marzo o al 23 marzo appunto per garantire l'obiettivo di coesione territoriale stabilito dal PNRR perché la preoccupazione qual è? Quella di non riuscire a distribuire quel 40% di risorse che devono essere erogate alle regioni alle regioni del sud e pertanto si stanno studiando interventi misure volte a far fronte anche all'ipotesi più drammatica nella quale effettivamente non si riescano a predisporre i progetti fino a possibili misure di compensazione volte comunque a far arrivare queste risorse anche al di fuori dei circuiti dei circuiti progettuali e qual è il problema? Certamente la carenza della capacità amministrativa ma anche la carenza della la carenza sul piano della progettualità delle stesse amministrazioni locali e questo è un problema ancora più delicato perché la progettazione come evidente implica anche scelte di carattere politico e qui si pone il problema dei limiti dell'assistenza tecnica pure prevista dal PNRR ma che ovviamente oltre un certo confine cioè quello della scelta politica non può non può spingersi emblematica in questo senso ad esempio è la situazione della Sicilia dove attualmente c'è il blocco del turnover disposto da un accordo di finanza pubblica Stato-Regioni del 14 gennaio 2021 che ancora rimane e che inevitabilmente condiziona in modo negativo la possibilità di assunzioni di personale specializzato che possa essere impiegato anche nella progettazione e poi successivamente ovviamente anche nell'attuazione dei progetti in verità si registra un già considerevole ritardo iniziale su questo fronte e qui c'è un paradosso la carenza di capacità amministrative era appunto una delle condizioni di svantaggio cui fare fronte con il PNRR ma per farlo era necessario farvi fronte a monte lo stesso PNRR nell'ambito dell'investimento 2-2 contenuto nella missione 1 digitalizzazione innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione prevedeva l'assunzione per tre anni di mille esperti a supporto degli enti locali oltre naturalmente al possibile ricorso dell'assistenza tecnica a questa previsione si era poi dato seguito col decreto legge 80 del 2021 e poi soprattutto col DPCM del 12 novembre del 2021 che è stato pubblicato soltanto il 29 novembre del 2021 e che paradossalmente conteneva dei termini di scadenza per alcuni fondamentali adempimenti come la manifestazione del fabbisogno per l'avvio delle procedure di riclutamento da parte delle regioni e delle province autonome un termine precedente il 30 ottobre 2021 alla stessa pubblicazione della stessa pubblicazione del DPCM ora è probabile che anzi è sicuramente dovuto questa questa discrasia alla necessità di rispettare le scadenze le rigide scadenze del cronoprogramma del PNRR ed è altrettanto probabile che si sia proceduto per via per canali informali informando le amministrazioni regionali e locali del fatto che occorreva appunto far fronte manifestare quello che fosse quello che era il fabbisogno ben prima dell'uscita del DPCM ma un simile metodo inevitabilmente non fa altro che agevolare avvantaggiare le amministrazioni più efficienti quelle che per proseguire stanno già sul pezzo anziché quelle che ovviamente risentono di significative carenze di capacità amministrativa ora una prima conclusione che si può trarre è che in questo momento viviamo un'emergenza nell'emergenza e cioè l'attuazione del PNRR soprattutto riguardo a questa priorità trasversale della riduzione del divario socio-economico nord-sud e da questo punto di vista una maggiore partecipazione delle regioni già alla fase di progettazione del PNRR avrebbe potuto suggerire l'attivazione di tutta una serie di misure di tutta una serie di interventi tavoli tecnici e task force che invece si stanno predisponendo adesso è stato detto prima di me anche negli interventi di questa di questa mattina e anche in quelli che mi hanno preceduto questo pomeriggio che la la governance del PNRR ha una struttura fortemente verticistica fortemente centralizzata che le regioni non sono state coinvolte nella fase della predisposizione del piano se non in misura molto limitata e anche in parte comprensibile che ciò sia avvenuto comprensibile perché come sappiamo i tempi erano molto stretti perché nel frattempo si è avuto un cambio di governo tuttavia tutto questo oltre che incidere sulla democraticità del processo di definizione del PNRR e inevitabilmente anche in quella di attuazione però come dire ha avuto anche e sta avendo delle ripercussioni negative sul piano dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi degli interventi programmati e questo come dire andrebbe in qualche modo richiederebbe misure e interventi correttivi anche perché no nella stessa riorganizzazione della cabina di regia che potrebbe anche prevedere una presenza di rappresentanti di rappresentanti regionali mentre invece in questo momento le regioni hanno soltanto una funzione un ruolo un ruolo consultivo quindi ecco un'altra considerazione che può essere fatta lo diceva bene Corrado Caruso prima è il rischio che il PNRR introduca delle riforme strutturali all'esterno al di fuori di una visione di insieme di una visione di un riformismo che abbia un proprio indirizzo e che piuttosto si accentuino delle tendenze già in atto ben prima che arrivasse la pandemia ossia la marginalizzazione dei percorsi rappresentativi e partecipativi l'esasperata accentuazione del ruolo degli esecutivi e appunto la riduzione vistosa del ruolo del Parlamento statale e delle assemblee legislative regionali un cenno ai poteri sostitutivi l'articolo dodici del decreto legge settantasette del 2021 prevede uno strumento di sostituzione una procedura ad hoc che può essere che viene che prevede appunto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposte della cabina di regia o del Ministro competente e con questo procedimento possono essere diffidati soggetti attuatori a eseguire gli atti di propria competenza entro 30 giorni dei corsi i quali possono essere nominati appositi commissari ad acta al fine di rispettare gli obblighi e gli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR ora all'irà dell'ampiezza della genericità della formulazione che può creare ovviamente qualche problema nella misura in cui uno strumento come questo venga impiegato al di fuori di una di un circuito di leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali c'è da chiedersi anche dell'utilità di uno strumento di tal sorta soprattutto dopo l'esperienza dell'emergenza sanitaria nella quale non si è fatto alcun uso dei poteri sostitutivi perché probabilmente richiedevano delle condizioni politiche difficili da realizzarsi e problematiche e problematiche da effettuare al di là di questi aspetti quindi ecco arrivando alle conclusioni si assiste per quanto riguarda le regioni del sud a una condizione è una condizione davvero paradossale le regioni in questo tutte le regioni sono state sostanzialmente stromesse dalla fase di predisposizione del piano ma dall'altro molti di esse soprattutto quelle appunto meridionali che pure dovrebbero essere beneficiari di una buona parte degli interventi di azioni previsti dal piano non hanno la capacità amministrativa di procedere all'attuazione del TNRR stesso a cominciare dalla stessa predisposizione dei progetti con la conseguenza che le regioni e gli enti locali possono essere estromessi del tutto dal processo attuativo del TNRR il che però ne comprometterebbe le stesse finalità altro aspetto da tenere in considerazione e lo diceva bene Enrico Carloni prima di me è che il rischio è quello di cronicizzare delle patologie istituzionali del nostro ordinamento laddove invece bisognerebbe tenere ben distinti interventi comunque emergenziali anche se volti a superare condizioni di disparità di diseguaglianza socio-economica da interventi strutturali ecco una preoccupazione che personalmente avverto sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è quella che si possa confondere la condizione patologica straordinaria emergenziale con la condizione di normalità immaginando delle riforme strutturali che come dire in condizioni di ritrovata normalità sarebbero assolutamente inaccettabili faccio riferimento anche alle proposte cui faceva riferimento prima Barbara Guastafelco un'ultima considerazione so che non è argomento di oggi verrà affrontato domani ma credo che non possa farsi a meno di accennarvi sul rapporto con le prospettive di attuazione del regionalismo differenziato in questo quadro io credo che il processo di attuazione del piano nazionale di ripresa e residenza non impedisca di guardare al processo di attuazione dell'articolo centosedici terzo comma senza tenere conto da un lato dell'esigenza di coordinare le procedure le modalità di attuazione del PNRR con eventuali forme di differenziazione dell'autonomia regionale e dall'altro è assolutamente necessario oggi più di ieri che le finalità perseguite dal PNRR non siano compromesse proprio da una differenziazione regionale senza garanzie quella verso la quale si stava andando successivamente al 2017 fino a che l'emergenza sanitaria non ha non ha bloccato il processo il processo attuativo della clausola di asimmetria quindi una differenziazione senza la definizione dei LEP in tutti i comparti senza la piena attuazione dell'articolo centodiciannove senza l'adozione l'adozione del criterio dei costi standard ecco da questo punto di vista eh credo che il processo di attuazione del regionalismo differenziato dovrebbe eh essere sottoposto ad una ad un supplemento di riflessione probabilmente sarebbe meglio ragionare sulla sull'opportunità di un'azione di manutenzione normativa anche costituzionale dello stesso articolo centosedici terzo comma introducendo diciamo coprendo una serie di lacune della stessa disciplina costituzionale mi riferisco alle procedure di negoziazione tra Stato e regioni mi riferisco al ruolo del Parlamento nel procedimento di differenziazione ma anche al seguito della stessa differenziazione alla possibile al carattere reversibile o meno del processo di differenziazione tutti elementi che al momento mancano e che non sono presenti nemmeno nel testo di legge quadro che era stato presentato alla fine del 2019 dopo appunto l'inizio dell'emergenza sanitaria ultima considerazione sul verso del processo riformatore dei processi riformatori del sistema delle autonomie ora mi sembra che tra le lezioni che possano trarsi dall'esperienza dell'emergenza sanitaria ce ne sia una in particolare confermata anche dalle difficoltà che si stanno riscontrando nella nell'attuazione del PNR e cioè che al di là del piano delle competenze stato regioni su cui spesso troppo spesso ci si sofferma nella definizione dei progetti di riforma ciò che probabilmente richiederebbe una maggiore attenzione in prospettiva riformistica è l'organizzazione istituzionale bisognerebbe ripensare la necessità di completare quella riforma avviata nel 2001 la legge costituzionale 3 del 2001 faceva esplicito riferimento alla necessità di riorganizzare il bicameralismo perfetto alla necessità di introdurre una camera delle regioni il sistema delle conferenze ha mostrato la sua insufficienza anche in questa fase di organizzazione di definizione del PNRR e quindi bisognerebbe ripensare l'assetto istituzionale sia sul versante dell'organizzazione statale sia probabilmente anche sul versante dei rapporti tra forma di stato scusate forma di governo statale e forme di governo regionali ecco la conflittualità che nei momenti più drammatici dell'emergenza sanitaria si è riscontrata tra i presidenti alcuni presidenti di regione e il governo probabilmente è anche sintomo di una discrasia tra la forma di governo dello Stato dove appunto il governo non ha una diretta legittimazione popolare e le forme di governo regionali che invece hanno una diversa connotazione con ciò non sto dicendo di portare a compimento il modello della democrazia maggioritaria a livello statale se lo si facesse però bisognerebbe prestare la dovuta attenzione agli effetti sistemici che le riforme orientate in questo senso hanno sul sistema delle garanzie costituzionali e sul sistema dei contrappesi istituzionali quello che voglio dire è che probabilmente bisognerebbe smettere di adottare una visione parcellizzata atomistica dei problemi istituzionali e guardare invece in una prospettiva sistemica all'organizzazione istituzionale complessiva grazie ringrazio ringrazio Alessandro grazie professor Morelli per il tuo intervento che diciamo introduce un tema importante che per ora è rimasto un po' in margini in fondo la questione meridionale sicuramente è un convitato di pietra del regionismo italiano quindi portarla all'interno del dibattito è sicuramente di grande importanza da questo punto di vista il PNRR è sicuramente un'occasione un'occasione per superare diciamo i problemi che hanno accompagnato per tanto un tempo nel nostro paese questa questione certo il rischio che diventi l'ennesima occasione mancata quindi ho seguito con attenzione le tue osservazioni sulle modalità di organizzare le procedure le istituzioni del PNRR a riguardo volevo sottolineare che in qualche misura la questione meridionale incrocia il regionalismo identitario di cui si parlava oggi pomeriggio perché è evidente come in certe visioni identitarie del regionalismo ci siano anche tendenze diciamo assolutamente non commendevoli che in realtà rischiano di accentuare il divario presente nel nostro paese e non a ridurlo con effetti negativi in realtà a livello sistemico per l'intero sistema paese di questo forse quando ci si arrocca nell'identità regionale non ci si rende conto c'è un po' il mito di salvarsi da soli che naturalmente non funziona mai ecco quindi anche perché ci sono situazioni magari di provvisorio benessere che sono legati a circostanze assolutamente contingenti che poi passano quindi diciamo un po' pericoloso oltre che probabilmente è appunto assolutamente non commendevole ragionare in questo modo da questo punto di vista anch'io lanciando uno sguardo sul dibattito di domani sul confronto che svolgerà domani come hai fatto tu certo sul 116 terzo comma forse un pochino più di cautela di prudenza non guasterebbe sarebbe assolutamente paradossale che le opportunità e le occasioni rappresentate del PNRR venissero compromesse diciamo da rigurgiti identitari sicuramente è stato un regionalismo un po' guascone soprattutto all'inizio questo è un dato che si coglie facilmente il che contrasta diciamo con l'idea appunto di una logica sistemica razionalizzante armonizzante speriamo diciamo che tutto il tempo in cui si è potuti meditare durante la pandemia e quindi di blocco di questi processi almeno nelle nelle punte più avanzate abbia portato un po' di saggezza diciamo di visione sistemica in fondo la pandemia stessa ha dimostrato come i problemi in nostro paese non conoscono confini regionali quindi sarebbe un filo paradossale arroccarsi all'interno di essi infine ho anche approcciato molto la tua idea di armonizzazione ai vari livelli istituzionali di armonizzazione della forma di governo che certo potrebbe voler dire da un lato completare poi mi sembra di intuire tu preferissi e completare la revisione costituzionale interessando anche lo Stato potrebbe anche voler dire forse ripensare certe scelte fatte a livello regionale che sinceramente con l'esperienza di certi governatori durante la pandemia insomma io ho qualche dubbio sulle lezioni dirette a me venuto cioè ce l'ho sempre avuto però diciamo ecco qualche sistema statale qualche perplessità no infatti infatti è lì che voleva arrivare qualche perplessità sul sulle certe scelte istituzionali di eccessivo rafforzamento viene grazie davvero sono contento tra l'altro che il collegamento abbia funzionato davvero in maniera perfetta era come averti qua tra di noi quindi ottimo adesso grazie ancora anche a nome naturalmente di tutti gli amici trentini ora dovrebbe altrettanto magicamente comparire il professor Giovanni Tarli Barbieri c'era 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 non so se c'era che da qua no ma è online non spaventare perché da qua non vedo nulla quindi io sono in una bolla una bolla vuota in cui no non vedo no ma nel solo termine non c'è nulla quindi non so per questo dico magia a un certo punto spunta uno cosa so non c'è c'è o non c'è c'è o non c'è no che Giovanni non precisa eh infatti 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 ciao Giovanni buonasera mi sentite perfetto ciao ciao Giovanni benvenuto benvenuto grazie grazie adesso abbiamo l'ultimo eh intervento eh naturalmente last button l'istanzi intervento qualificatissimo del professor Giovanni Tarli Barbieri dell'Università di Firenze eh grande amico dell'Università di Trento posso ricordare che una settimana fa eri qui tra noi quindi eh diciamo c'è una presenza graditissima e costante presso il nostro teneo ti cedo volentieri la parola grazie eh grazie chiedo Matteo se è possibile condividere un file se no è lo stesso non è nessun problema bisogna chiedere eh sì sì però bisogna fare guarda se puoi farlo se sei co-host se no è lo stesso non è no no ma dovresti poterlo fare guarda non è non è non è Buonasera a tutti, grazie intanto dell'invito, un ringraziamento davvero molto sentito ai colleghi. Io inizierei con una citazione di Alcide De Gasperi all'Assemblea Costituente nella seduta del 29 gennaio del 48. De Gasperi al termine del suo intervento disse, quanto segue con riferimento alle regioni, le autonomie si salveranno, matureranno, resisteranno, solo ad una condizione, che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema accentrato statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le spese. Non facciamo la concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciamo in modo di creare un'amministrazione più forte e che costi meno. Ecco, credo che questa citazione sia utile per tentare di tracciare un bilancio dell'autonomia regionale in questi 50 anni di vita e in questi 30 anni dall'entrata in vigore della riforma del titolo quinto. Direi che le linee su cui si può tentare questa analisi sono sostanzialmente due, cioè i problemi che sono risultati ostativi a un coerente disegno autonomistico e il secondo il rendimento istituzionale dimostrato dalle regioni e io mi soffermerò su quelle a statuto ordinario. Molto è stato detto e quindi mi posso tranquillamente rinviare a quanti sono intervenuti prima di me. Mi diviso soltanto a osservare come sul primo punto, tra i fattori che sono risultati ostativi, io inserirei anche il processo di revisione che è intervenuto tra il 99 e il 2001, che non ha risolto contraddizioni e ambiguità già largamente evidenti nel periodo precedente ed anzi forse ha contribuito ad accentuarne. E ciò sia per alcuni noti limiti contenutistici, l'imprecisa individuazione dei titoli competenziali nell'articolo 117 che ha contribuito all'espansione del contenzioso costituzionale, sia per la mancata soluzione di alcuni nodi istituzionali presenti nel modello originario, la mancata trasformazione del Senato, la questione dei raccordi, sia per il sostanziale abbandono di questa riforma da parte del potere legislativo statale e quindi per la perdurante mancata, larga attuazione dei suoi contenuti. Quali sia questa inattuazione, è noto e quindi non importa soffermarsi, l'articolo 118 che avrebbe dovuto essere coerentemente attuato e anche nella logica di uno snellimento, una semplificazione dell'amministrazione periferica dello Stato. Una revisione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali che è anteriore al 2001, è da tempo in gestazione un disegno di legge delega che però non mi risulta essere stato presentato alle Camere. E in questa logica, ecco, solo per inciso, sarebbe auspicabile con riferimento agli enti locali un mutamento di prospettiva, finalizzato a differenziare la disciplina dei piccoli comuni che oggi sono disciplinati largamente come quelli maggiori. E ci sono alcuni dati che rendono assolutamente implausibile questa scelta. Ci sono 300 comuni oggi in Italia che hanno un dipendente, mille comuni che hanno da uno a tre dipendenti. Ecco, questo per dare la misura che è un po' difficile come invece è accaduto che si richieda a questi comuni, per esempio, di varare il pola, il piano per il lavoro agile, quando un comune ha tre dipendenti, come capite, tutto questo diventa semplicemente impossibile. Sempre in questa logica la necessità di un ripensamento delle province e delle città metropolitane si impone non soltanto per i limiti di una legislazione, la legge del Rio, che come è stata affermata è nata a sospesa tra due legalità costituzionali, ma anche per le indicazioni che ci arrivano dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale. È forse fin troppo superfluo ricordare l'inattuazione dell'articolo 119 della Costituzione, quella perdurante transizione di cui ha parlato la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella sua relazione semestrale del gennaio del 2018 e il fatto che, per durante l'attuazione dell'articolo 119, nel frattempo sono intervenute in materia disposizioni di natura congiunturale, straordinaria se non derogatoria del quadro costituzionale, legate soprattutto, come è noto, a lunghe fasi di crisi finanziaria, che però hanno avuto l'effetto di produrre una non trascurabile frammentazione e instabilità. del quadro normativo e ancora una volta mi cito la Commissione per il federalismo fiscale. Parallelamente non sono mancati spinti alla centralizzazione delle decisioni politiche e amministrative in contrapposizione alle esigenze di autonomia e alle istanze degli enti territoriali substatali. Sappiamo che l'attuazione del cosiddetto, molto cosiddetto, federalismo regionale è stata rinviata al 2023, ma il PNRR prevede addirittura tale attuazione entro il primo quadrimestre del 2026. Ecco, venuto meno quindi all'impatto con la realtà, le aspettative di una mitologica trasformazione dell'ordinamento italiano in senso federale, anziché dedicarsi seriamente alla concreta attuazione del titolo quinto, sappiamo che il legislatore statale ha a lungo perseguito, da un lato la strategia rivelatasi fallimentare di una riforma della riforma del 2001, basti pensare alla devolution, non respinta nel referendum costituzionale del 2006, dall'altro ha secondato una prassi di centralismo di fatto, nella definizione delle più rilevanti politiche pubbliche, che fu denunciata, badate già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma. Ricordo un intervento di Nico Falcone, un convegno organizzato proprio a Trento, dove il collega metteva in evidenza già allora come, a fronte dell'approvazione di questa riforma, si continuasse a legiferare in Parlamento come se la riforma molto semplicemente non ci fosse. Ecco allora che questi limiti e l'incompiutezza del disegno autonomistico si sono radicati fin da subito, si sono accentuati, a partire dalla sedicesima legislatura con la crisi economica e poi con le crisi e le emergenze che via di seguito sono sussedute. Bisogna però chiedersi se, di fronte a tutto questo quadro che chiama in causa responsabilità del legislatore statale, anche le regioni non abbiano, come dire, in qualche modo qualche responsabilità. Io credo che per inquadrare questo fenomeno non si possa che partire da una considerazione sulla quale Alessandro Morelli si è soffermato a lungo e che io riprendo brevemente. Il fatto che stiamo vivendo, forse da sempre, una sorta in Italia di regionalismo differenziato di fatto. Cioè il fatto che le nostre regioni sono profondamente diseguali tra di loro per rendimento istituzionale e non solo. Riprendo quanto diceva Alessandro Morelli prima, il divario del PIL pro capite tra nord e sud Italia, ci dice l'ufficio parlamentare di bilancio, ammonta più di 40 punti percentuali. Nel triennio 2013-2015 la spesa primaria delle amministrazioni pubbliche è stata in media di 209 miliardi di euro all'anno contro i 480 miliardi spesi per il centro-nord, quindi c'è una differenza tra sud e nord molto evidente. Stessi dati sulla spesa in conto capitale. Tutto questo si è visto nelle politiche pubbliche, in particolar modo nella sanità, che come sappiamo è tra le politiche pubbliche quella più rilevante dal punto di vista dei bilanci delle regioni. La Corte dei Conti ormai da anni ha messo in evidenza, come cito, il settore sanitario resta tuttora alla ricerca del difficile equilibrio tra la sostenibilità finanziaria e l'esigenza di erogare un servizio a tutela del fondamentale diritto alla salute. E vi sono ancora margini di miglioramento dell'efficienza del sistema, carente soprattutto in alcune aree geografiche. e già nel 2014 la Corte denunciava come sia fosse percepito diffusamente l'offuscamento progressivo delle caratteristiche dei servizi che il cittadino può e deve aspettarsi dall'intervento cui è chiamato a contribuire. Nella sanità ciò ha significato in molte regioni servizi di assistenza agli anziani o disabili inadeguati agli standard, qualità dell'offerta ospedaliera insufficiente e alla base di un incremento della mobilità sanitaria. Nel 2019, 700.000 italiani sono andati a curarsi fuori dalla propria regione. Ora, tutto questo conferma l'esistenza, e cito ancora la Corte, di un sistema con molte diseguaglianze, mentre la decrescita degli investimenti da parte degli enti sanitari locali, meno 48% nel periodo 2009-2017, rallentando l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche e terapeutiche, ha incrementato il tasso di obsolescenza delle infrastrutture che è mediamente maggiore al sud rispetto al nord. La spesa sanitaria pro capite varia in Italia da un minimo di 1.770 euro della campagna a un massimo di 2.430 euro della provincia autonoma di Bolzano, ma anche nella Romagna viaggia con una spesa pro capite di 2.120 euro. Ora, tutto ciò contribuisce a spiegare criticità anche che si evincono nell'analisi delle cosiddette griglie LEA, che costituiscono uno strumento prezioso per riscontrare da un lato aree di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dall'altro di punti di forza. Dai dati pubblicati nel maggio del 2021 e riferiti al 2019 dal Ministero della Salute, emerge che due regioni meridionali, Molise e Calabria, risultano largamente inadempienti su alcune aree cruciali dell'assistenza agli anziani e ai disabili e una di esse, la Calabria, per le ragioni note che sappiamo, addirittura in peggioramento rispetto all'anno precedente. Delle regioni complesse nella fascia invece degli adempienti, quelli del mezzogiorno risultano avere ponteggi più bassi, con la sola eccezione del Piemonte. Se poi passiamo all'analisi riferita a singoli indicatori, differenze evidenti tra le regioni del nord e quelle del sud sono riferite per esempio alle coperture vaccinali per i bambini, ai test di screening oncologici, agli standard di assistenza per gli anziani. Detto del turismo sanitario, l'ultima considerazione riguarda le regioni in piano di rientro sanitario, che come sappiamo sono sette di queste sei collocate nel sud d'Italia e di queste sei, due risultano commissariate, altre appunto con gravi criticità. Nella relazione al decreto legge 35 del 2019, commissariamento della regione Calabria, si leggono poi dati assolutamente sconcertanti. L'analisi di contesto svolta tra il 2014 e il 2015 dall'Agenas ha messo in luce come la criminalità organizzata abbia concentrato, soprattutto nel settore sanitario, i propri interessi economici e di espansione, in ragione di fattori quali l'importanza delle dimensioni economiche del settore, la necessità di creare una rete di relazione con gli operatori sanitari ai fini di acquisire posizioni di privilegio, la necessità di costruire relazioni per l'acquisizione di appalti pubblici. Mi fermo a questo punto. Come sappiamo, la procedura relativa a piani di insanamento e ancora peggio il commissariamento, non si traducono soltanto in limitazione dell'autonomia regionale, ma anche dei diritti fondamentali. Sappiamo che le regioni non possono prevedere livelli di assistenza aggiuntiva, nemmeno nel caso delle cure oncologiche. La stessa esperienza poi dei piani di rientro, se ha garantito il ritorno all'equilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali, ha evidenziato diffuse criticità e circoli viziosi che ancora una volta la Corte dei Conti ha evidenziato. Paradossalmente poi, anche le regioni cosiddette virtuose rischiano di non poter garantire sempre i livelli essenziali delle prestazioni, avendo già arresto la spesa efficiente e quindi entrambe le sentenze sono il risultato di un procedimento di finanziamento della sanità ancora in larga parte determinato dal centro e soprattutto caratterizzato da uno scarso coordinamento tra la preventiva determinazione delle risorse e i successivi processi di convergenza basati sulla standardizzazione dei costi e delle funzioni e sui limiti imposti alla spesa regionale per effetto del coordinamento finanziario. e qui mi riferisco a Guido Rivossino. Ecco, parlavo quindi di un centralismo delle decisioni e allora la domanda è se, come dire, in qualche modo le regioni abbiano in qualche misura contribuito a questo centralismo. Ma ci sono alcuni fattori che depongono sicuramente in questa direzione, fattori diversi e che menziono rapidamente. In primo luogo, la vicenda spesso della politica e dei costi delle istituzioni. Come sappiamo, ecco, c'è stato un decreto legge statale, una sentenza discutibile della Corte, la 198 del 2012, ma tutto questo è anche una cartina di sornatore delle contraddizioni che da tempo connotano le autonomie regionali. E' infatti da rimarcare che nonostante l'evidente lesione delle prerogative anche statutarie delle regioni che questa vicenda ha evidenziato, queste misure sono state richieste dalla conferenza delle regioni a dimostrazione della sostanziale incapacità di correggere evidenti patologie nell'esercizio delle funzioni. E una di queste è la tabella che potete vedere qui davanti a me, se la vedete, e che riguarda la consistenza dei gruppi consigliari, che era uno degli obiettivi che anche il legislatore statale voleva provare a correggere, ma che la prassi ha dimostrato non essere in qualche modo corregibile. La tabella, se la vedete, mi sembra abbastanza chiara, dimostra che il numero dei gruppi consigliari sia tale da dimostrare una incontrollabile frammentazione all'interno dei consigli regionali con alcune punte, direi assolutamente clamorose, le regioni la cui media dei componenti del gruppo oscilla di poco sopra i tre e addirittura il caso ancora più clamoroso del Molise che con 21 consiglieri regionali ha 11 gruppi, di cui 6 composti da un unico consigliere, con una media di consiglieri per gruppo pari a 1,9. Questo credo che sia l'evidenza di un problema che non è stato risolto, ma non è certo. Un altro indicatore, l'ho già accennato, le regioni in piano di rientro, un terzo indicatore, la giurisprudenza della Corte relativa alle leggi di bilancio regionali. E guardate, non è un caso che proprio con riferimento ai bilanci delle regioni, la Corte ha dovuto osservare e ricordare che la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale e lo ha detto in relazione, come dire, ad una intera legge della regione Abruzzo di approvazione del rendiconto generale del 2013 dichiarata incostituzionale. Ancora, sulla copertura finanziaria delle leggi regionali, la Corte dei Conti ha segnalato, cito, un quadro di insieme caratterizzato da plurime e ricorrenti criticità che sono stati, come dire, confermati anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, cito da ultimo la sentenza 244 del 2020. Un ultimo indicatore, ma diciamo tra quelli che ho riscontrato in questo ambito, l'alto numero di leggi regionali che hanno come unico contenuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio con picchi particolarmente alti in alcune regioni. Un esempio, nel 2020, la campagna su 51 leggi regionali, 25 recono riconoscimento di debiti fuori bilancio. E qui tocco un tema che ha già, diciamo, affrontato prima di me Enrico Carloni, e cioè le leggi regionali. Ecco, qui dovrei avere una tabella con qualche numero. Eccola qui. Ecco, i numeri sono esattamente quelli che, diciamo, ci ha sintetizzato prima Enrico. Ci sono differenze, evidentemente, tra regione e regione, ma al di là dei numeri, io credo che siano i contenuti delle leggi regionali che siano da, diciamo, studiare, da scrutinare. Lo stesso ministro, l'allora ministro degli affari regionali, Boccia, in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, denunciava un alto numero di leggi, come dire, manifesto, approvate per, al solo scopo, come dire, di approvarle, come dire, mettendo in conto anche, come dire, l'impugnazione da parte del governo. Leggi manifesto, leggi, diciamo, di provvedimento e questo non può stupire che a livello regionale, diversamente dal livello statale, molte leggi, come vedete da questa tabella, derivino da iniziative consigliari. Diversamente da quanto avviene a livello statale, l'iniziativa consigliare, è un'iniziativa che non è condannata quasi programmaticamente all'insuccesso. Anzi, ci sono alcune regioni i cui dati sono abbastanza clamorosi. Le Marche, tra il 2019 e il 2020, come potete vedere, vedono un numero di leggi derivanti da iniziative consigliari, nel primo caso, 2019, 76,7, nel secondo caso 69,1 e non è come dire l'unico caso perché si può citare anche nel 2019 in Lazio, l'Abruzzo 2019-2020, la Campania 2019-2020, la Puglia 2000-2020. Ecco, se poi, diciamo, dalla potestà legislativa ci spostiamo sul terreno, come dire, di quella statutaria e il discorso cambia poco. È stato accennato prima al tema della forma di governo regionale e ai suoi limiti, beh, certo, bisogna dire, e questo Roberto Bin ce lo ha spiegato, diciamo, da par suo, come, diciamo, le possibilità di, non dico di correggere il modello, ma di temperare le derive, diciamo, più esquisitamente presidenziali a livello statutario, beh, è stato, come dire, un obiettivo completamente fallito. In serie di redazione degli statuti sono state fatte scelte largamente, come dire, discutibili, l'aumento delle prerogative dei consigli, come se questo, diciamo, si traducesse automaticamente in un rafforzamento del consiglio, anziché, come dire, puntare sulla valorizzazione, ad esempio, nel procedimento legislativo, delle procedure interistituzionali, della valutazione delle politiche pubbliche e poi della valorizzazione dei consigli nelle funzioni non legislative, che, come dirò tra un attimo, sono fondamentali, funzioni di indirizzo, funzioni di controllo. In altri casi non si è fatto praticamente nulla, né a livello statutario, né a livello di regolamento interno, né a livello di legge elettorale, la frammentazione, ecco, vi do soltanto un dato che riguarda più particolarmente le leggi elettorali, eccolo qui, dunque, nelle elezioni del 2020 in Campania e in Puglia abbiamo avuto 26 e 29 liste presentate e in Campania 17 di queste hanno ottenuto seggi, ma dati, come dire, altrettanto ampi si riscontrano anche in non poche altre regioni. Altri contenuti poi hanno semplicemente avuto vita breve. Le norme a tutela dello statuto delle opposizioni che sono andati incontro a tre fattori diciamo che l'hanno depotenziate radicalmente. La frammentazione dei gruppi di minoranza, il fatto che il candidato presidente sconfitto consigliere regionale in tutte le regioni sia tutt'altro che un capo dell'opposizione. Molto spesso nemmeno va in consiglio preferendo mantenere per esempio il mandato parlamentare o quello di sindaco che è già vero oppure diciamo lascia il seggio dopo poco oppure ancora va nel gruppo misto o in un gruppo monocellulare. E infine ecco terzo punto che non posso approfondire adeguatamente il fatto che nel procedimento legislativo e non solo questa forma di governo ha riscoperto nella prassi moduli consensualistici che si pensavano incompatibili con questa forma di governo. Insomma l'idea di maggioranze legislative che forse anche e soprattutto in relazione a contenuti della legge non corrispondono con la maggioranza di governo essendo come dire più ampie e con le opposizioni che partecipano alla definizione dei prodotti. Vado rapidamente alla conclusione accennavo prima al tema dell'indirizzo ecco questo è un altro tema in cui le regioni hanno dimostrato ampie carenze la potestà di indirizzo e di programmazione è stata esercitata poco e in modo debole e lacunoso il pensiero corre ancora una volta alla materia sanitaria e al controverso processo di aziendalizzazione introdotto a partire dalle riforme degli anni 90 ebbene questo processo necessita di un'attività proprio di indirizzo e programmazione a livello regionale pena una frammentazione degli interventi e rischi che si sono visti ampiamente di un'impropria concorrenza tra le ASL e i suoi direttori generali a tutto danno del buon andamento dell'amministrazione e della corretta erogazione dei servizi. Un altro terreno diciamo in cui le regioni hanno dimostrato una scarsa capacità di interazione è quello delle procedure che ho accennato prima interistituzionali in particolar modo i rapporti con gli enti locali la crisi dei cal è sotto gli occhi di tutti ma in generale ecco anche le sedi tra esecutivi regionali e locali che pure ci sono non in tutte le regioni sembrano esercitare la stessa efficacia è stato citato prima il PNRR la normativa con i suoi limiti il suo essere centralistico eccetera ma mi chiedo se un più forte sistema di rapporti tra regioni e enti locali nella logica di cabine e di regia territoriali non avrebbe aiutato per esempio gli enti locali e soprattutto i comuni più piccoli a quella capacità progettuale nella quale come dire fanno tanta fatica a porsi chiudo e davvero con un'ultima considerazione e avrei voluto parlare poi delle riforme ma su questo non posso insistere è il tema della amministrativizzazione delle regioni questo guardate è un fenomeno che dura direvo dire da molto tempo che certo ha trovato nella legge del Rio alcune un tratto assolutamente molto rilevante cito sempre il caso della mia regione che nella legge in cui diciamo ha ripartito le funzioni amministrative già spettanti alle province nell'allegato alla legge addirittura ha inserito nominativi dei dipendenti che venivano trasferiti alla regione in un allegato ad una legge regionale questo per spiegare appunto poi la legge regionale anche nella nella prassi ecco questo processo di amministrativizzazione ha una sua ricaduta evidente nelle politiche sul personale qui giustamente Alessandro Morelli prima si è soffermato su questa normativa anche statale in materia di contenimento dei costi del personale di limitazioni al turnover introdotta dalla metà degli anni 2000 fenomeno questo come dire evidenziato anche in un recente documento della Banca d'Italia beh però se tutto questo è vero e se tutto questo sta creando problemi bisogna anche interrogarci sulle politiche che le regioni hanno fatto proprio in relazione al proprio personale per esempio sull'assunzione di precari e sui processi di stabilizzazione degli stessi che sono stati politiche che da un certo punto di vista si potranno anche comprendere ma certo sono state purtroppo il contrario di ogni e qualsivoglia visione strategica bene vi ringrazio molto per la vostra attenzione e davvero ancora grazie per l'invito grazie al professor Giovanni Tarli Barbieri per come ha ben chiuso questo pomeriggio di relazioni due punti vorrei velocemente richiamare il focus che ci ha proposto sulla sanità che è assolutamente appropriato perché sappiamo che l'ottanta per cento del bilancio delle regioni ordinari va in sanità e beh è indubbiamente vero cioè quello che ci proponeva l'equità sanitaria in senso territoriale il nostro paese rimane l'obiettivo da raggiungere non ci siamo assolutamente arrivati basta guardare i dati sulla vita media nel territorio italiano cioè sull'accesso alle cure eccetera quindi probabilmente forse venirebbe incentivare gli sforzi di riequilibrio piuttosto che che pensare a ulteriori differenziazioni di sistemi sanitari che sono già sufficientemente differenziati non credo dire nulla di nuovo dicendo che i flussi di turismo sanitario sono sempre unidirezionali cioè ci si muove dalla regione A alla regione B e nessuno si assicurerebbe mai di andare dalla regione B alla regione A per far sicurare credo sia esperienza nota a tutti e il secondo punto interessante come ha richiamato la responsabilità regionale devo ringraziare Giovanni che nella scelta dei dati è evitato con cura delle regioni del stato speciale e questo direi che da Trentino è apprezzabile però in effetti perché forse non sarebbero usciti dati così diversi però indubbiamente ci sono responsabilità forti delle regioni su diciamo la frammentazione dei gruppi la qualità diciamo terribile delle leggi della legislazione regionale è spesso imbarazzante per chi si occupa di diritto regionale bisogna sempre occuparsi del regionalismo ideale perché se si passa a leggersi le leggi di qualcosa in ordinaria si rimane esterefatti le stabilizzazioni eccetera quindi mi pare corre assolutamente corretto e c'era comunque anche nel suo caso da ottimo interventore qual è poi una una chiusura diciamo di speranza c'era una parola di speranza finale per fortuna diciamo e in cui evidenzia come da tornare a porre responsabilità al centro rapporti tra regioni ed enti locali indubbiamente anche in questo caso diciamo credo che il senso di questo pomeriggio sia giustamente come bene ha fatto anche Giovanni e come hanno fatto tutti i relatori che l'hanno preceduto quello di indicare i problemi però suggerire anche naturalmente delle soluzioni direi che siamo riusciti nel nostro compito perché non siamo stati per nulla celebrativi ecco e credo che questo è un convegno che in occasione di una celebrazione non deve essere una celebrazione mi pare che abbiamo fatto il nostro mestiere di intellettuali quindi abbiamo evidenziato i problemi abbiamo cercato di individuare qualche soluzione ora direi forse c'è qualche minuto se ci fosse qualche veloce abbiamo persone assai autorevoli in platea non so se qualcuno vuole intervenire prego c'è forse anche il microfono se forse se necessari non lo so se vuole grazie grazie e un grazie anche agli organizzatori del convegno naturalmente perché dà l'opportunità di affondare nelle radici del diritto a me personalmente io sono un avvocato quindi non non frequento abitualmente queste queste aule però una domanda una domanda è anche sostanzialmente una una richiesta così di 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 spiegazione o comunque di di illustrazione vorrei porla alla professoressa Guastaferno mi pare si chiami Guastaferno e laddove ci ha parlato dell'intervento della Corte Costituzionale questo intervento che è un intervento naturalmente di armonizzazione del sistema funziona come intervento di armonizzazione del sistema però su questo non ho sentito un un accenno un accento critico cioè l'accento critico a mio avviso è questo perché il Consiglio di Stato quando si occupa di conflitti diciamo che riguardano la provincia autonoma di Bolzano interviene anche un consigliere nominato in qualche modo dalla provincia di Bolzano e quando invece la Corte Costituzionale si occupa e si occupa anche pesantemente interviene sulle autonomie speciali non siede altrettanto non viene previsto un meccanismo altrettanto di diciamo coinvolgimento di giuristi o comunque di persone che possano aiutare anche la Corte Costituzionale ad esprimere una valutazione quanto più congrua e quanto più consona diciamo alla situazione di conflitto nella quale deve poi intervenire ed operare grazie mi scuso della domanda magari non troppo articolata però era questo il fulcro che mi interessava di approfondire grazie molte grazie grazie allora semplicemente è una questione di diritto processuale quindi dipende in qualche modo dalle procedure ad ogni modo la Corte Costituzionale si è recentemente dotata anche della possibilità del cosiddetto in qualche modo amico scuri e quindi probabilmente questa tendenza andrà a mutare cioè anche i portatori di interesse possono ora far sentire le proprie ragioni cosa che prima non era possibile poi non so se magari qualcuno che ha avuto l'occasione anche di avere esperienze interne da assistente di studio come Corrado vuole arricchire la mia risposta aspettiamo il conclusore che è improvvisamente scomparso è stato qua tutto il pomeriggio sappiamo che tornerà se posso allora aggiungere se posso aggiungere l'osservazione però riguardo ah perfetto aggiungo soltanto una cosa velocissima mi consigliere però che nella giropedenza costituzionale per citare il nostro conclusore quando la corte indossa gli scarponi quindi quando va giù più dura lo fa verso le regioni ordinarie in genere con le regioni speciali ha il piede più più soft ecco quindi sì quindi voglio dire questo è fuori verbale però diciamo c'è diciamo questa questione che lei rileva in realtà secondo me è più avvertibile sull'ordine sono certi ordinari veramente maltrattati regione Calabria prima di tutte le speciali secondo me hanno una capacità informale sicuramente di far sentire le loro esigenze i loro interessi diciamo in maniera più efficace compresa la nostra poi capisco il discorso della presenza prego prego una cosa rispetto alla domanda la provocazione l'idea di eleggere diciamo dei giudici di estrazione no tra virgolette regionale o regionalistica è ragionevole deve legarsi però alla creazione di una camera no di natura regionale anche lì bisogna poi capire come ovviamente strutturarla io non vedrei nulla di male magari levandole tra i 15 giudici ma non succederà mai lo dico solo come provocazione ai giudici di nomina presidenziale lasciando riequilibrando così le nomine a favore del Parlamento rappresentante della diciamo della rappresentanza sede della rappresentanza nazionale e del magari insituendo una quota magari un paio eletti da una camera territoriale sarebbe una cosa che ci starebbe eh? prego questo il diritto comparato ci stende da immagino vieni vieni scusa no solo adesso dico il diritto comparato per esagerare però evidentemente la letteratura del diritto comparato su questo cioè sulla possibilità di costruire una corte costituzionale che rifletta addirittura poi le regioni che in Italia avrebbe chiari problemi su che cosa in realtà dovrebbero riflettere come differenziazione e ha un dibattito grande cioè il tema della reflective judiciary in realtà si è dimostrato perdente sostanzialmente ovunque eh se non in alcuni casi resta il tema del Canada che però lì non viene mai giustificato se non attraverso la questione del common law e civil law mentre invece anche nei paesi dove eh c'è un come dire una estrazione plurinazionale nella composizione delle corti come in alcuni sistemi latinoamericani si sta cercando di dare a questo un senso perché sono espressione di un pluralismo giuridico interno non di una identità o di una sensibilità che dovrebbe essere riportata alla corte perché questa sensibilità a questo punto potrebbe essere relativa a qualunque tipo di indicazione quindi in questo senso io personalmente troverei ma credo qui un attimo tra il gruppo un po' vicino al diritto comprato ci siamo tutti sollevati perché di problemi ce ne sarebbero proprio ma tanti 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 quindi si andrebbe veramente verso un etno regionalismo di cui già parlava Bartole 25 anni fa credo quindi ma guarda ma non è ma guarda io ti dico solo che un sistema come il Belgio per esempio che simile al nostro non ha mai voluto introdurre la dissenti in opinion per creare quel genere di continuità quando si è minimamente provato a dire che forse i fiamminghi avevano necessità di esprimere sono stati asfaltati sotto tutti i punti di vista perché anche in un ordinamento dove obiettivamente i contrasti da questo punto di vista e quindi la necessità di essere meglio rappresentati in corte sono maggiori dei nostri è stato tutto fermato perché la corte rappresenta quello che diceva Barbara cioè quel momento in cui bisogna armonizzare non puoi non armonizzare e quindi una volta lo fai meglio una volta lo fai peggio ma da lì deve uscire una voce chiara da qui l'assenza dell'essentino opinion da qui la volontà di non poi per carità questo però io ci vedrei tanti e tanti se non dico problemi ma quantomeno rischi a moltiplicare delle istanze di questo genere adesso andiamo a lavorare la professione però su questo ha detto Anna e condivido e questa è la tradizione diciamo della letteratura comparatistica relativa alle corti mi sembrava molto interessante quello che diceva Barbara Guastaferro rispondendo appunto all'avvocato che faceva la domanda cioè l'ampliamento degli spazi dell'amico scuro e che tanti problemi anche ha in sé noi quando uscì insomma la dottrina italiana si espresse con interesse ma anche con molta prudenza se posso dirla così sul tema non da ultimo perché l'amico scuro nasce con un processo anche di apertura della corte rispetto alla dinamica sociale fatto non sempre come dire scontato e gradito in un ordinamento diciamo che fa della corte diciamo spesso una semplice turrisseburnia e invece come si vede in tante anche recenti i movimenti della corte questo non è cioè un processo lungo però esattamente il tema che diceva Barbara può essere un elemento che può ampliare lo spazio di confronto della stessa corte con soggetti esperienze e formazioni gruppi che possono consentire alla corte di valutare meglio certamente le decisioni che andrà a prendere tra l'altro se non ricordo male nelle varie ipotesi che noi abbiamo fatto all'epoca quando uscì la questione relativa alla micus cura la novella della micus cura non vi era la possibilità che invece lei segnala nessuno ha segnalato la possibilità che le autonomie speciali o singole regioni speciali o province in questo caso costituissero diciamo formazioni tali da rientrare dentro l'idea della micus cura però a naso adesso guardo diciamo chi conosce molto meglio di me la parte relativa alla micus cura questa cosa non credo sia esclusa a priori quindi potenzialmente è uno spazio che lei oggi ci ha regalato per aprire un nuovo scenario grazie 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 a tutti per questo arricchimento di dibattito direi che c'è una non so se vogliamo c'è una domanda un commento in chat Giannangeli lo leggete voi lo vedete quindi lo vediamo per letto se non è una domanda o se da lì poi mi caleggia la mia spiace così poi allora Emanuela Giannangeli Emanuela Giannangeli Università degli Studi di Milano però forse c'è un qualche microfono acceso non dimentichiamoci che l'interpretazione politicizzata della Corte Costituzionale di indubbia autorevolezza a salvaguardia della Costituzione inevitabilmente influenzata dall'interpretazione che risente del momento storico di emergenza supportato da larghi voti legislativi di regolamentazioni in merito almeno del passato penso ci sia necessità di rivalutazione del ruolo e delle competenze degli enti territoriali decentrati a tutti i livelli di governo soprattutto quelli più vicini ai cittadini in ossequio al principio di sussidiarietà la scoperta deve essere comunque anche quella centrale ed essenziale della sovranità popolare manifestata attraverso elezioni democratiche che spero siano prossime a venire e non siano prorogate per scelte politiche opportunistiche sfruttando la contingenza storica emergenziale pandemica e di guerra l'unità nella valorizzazione del decentramento e della cooperazione e solidarietà regionale è quanto mai opportuno in questo momento storico cruciale perfetto ringraziamo anche di questo intervento grazie della lettura allora direi che non c'è modo migliore di chiudere questo legge ma è perfetta la lettura è perfetta dopo gas la legge la vidina con me no c'era c'era una vi ringrazio molto partiamo dalle domande allora perché è presente qualcuno che rappresenta l'amministrazione locale delle regioni speciali di fronte al Consiglio di Stato non di fronte alla Corte Costituzionale era questa la domanda la risposta è bisogna risalire al motivo per cui esiste il contenzioso amministrativo e la giustizia amministrativa il giudice amministrativo è un giudice così è scritto nel manuale ma particolarmente esperto della storia dei problemi della logica dell'amministrazione visto mai che una regione speciale non abbia qualche particolarità di amministrazione da far presente al Consiglio di Stato ci può stare penso che conti molto meno di zero dal punto di vista pratico però come modello astratto ci può stare e perché non ci può stare quella Corte Costituzionale perché la Corte Costituzionale non ha da trattare in maniera diversa una regione speciale da una regione ordinaria se non per quello che è scritto nei testi costituzionali dopodiché le province autonome e le regioni autonome si fanno rappresentare dai loro avvocati se scegliono i cattivi avvocati peggio per loro non sempre la difesa processuale delle regioni è adeguata e questo sicuramente non agevole la difesa e le loro posizioni però cominciamo dall'inizio il prossimo anno io festeggerò le nozze d'oro con le regioni ma mica poco capisco chi è stato scioccati non potete immaginare quanto ha scioccato me queste notizie e devo dire che quasi quasi sono l'idea di fare quegli atti di segnalità cioè un divorzio tardivo vorrei separarmi dalle regioni Marco mi guarda con l'aria di uno che dice eh perché lui si è separato tanti anni fa perché perché tutte le cose che stiamo dicendo sulle regioni mi sembrano immancabilmente antiche e prive di un perno ma perché esistono le regioni c'è un motivo per cui l'Italia si è inventata la regione che prima non esisteva nel mondo esistevano negli stati federali ma non esistevano le regioni è una cosa inventata dagli italiani e che hanno inventato già che c'erano anche le regioni fisicamente e geograficamente che non esistevano se uno legge gli atti del costituente scoprirà che le richieste di tante piccole regioni sono state immediatamente avanzate e perché sono state inventate per una ragione squisitamente politica e la citazione di De Gasperi andava a fagiolo era l'idea che da uno stato centralizzato qual era per storia l'Italia soprattutto dopo il fascismo ma non solo in cui le autonomie erano negate e a presidiare il controllo sull'autonomia sono state diventate le province che erano l'arma del governo sul territorio per controllare quello che era un'amministrazione incontrollabile che era quella comunale immaginiamoci come i trasporti e le comunicazioni tanti anni fa i comuni polvere che stanno soprattutto in Piemonte e Lombardia tra l'altro noi ci portiamo dietro retaggi storici enormi da questo punto di vista metà dei piccoli comuni stanno in Piemonte e Lombardia e il primo a cercare di risolvere questo problema è stato Carlo Felice e non ci è riuscito e ancora stiamo a ragionare su questo problema che giustamente Giovanni tra i barbieri prima indicava noi abbiamo una letteratura giuridica tra cui uno dei grandi santi del diritto pubblico che ho sempre trovato lasciamo stare cioè santi romano santi santi romano però questa non era voluta diceva perché gli enti locali devono essere come le persone devono essere uguali tutti i comuni devono avere gli stessi diritti questa è una bestialità questa è la negazione dell'autonomia l'autonomia o è differenziazione o non ha senso perché bisogna essere diversi se poi facciamo le stesse cose non ha senso allora di fronte a una situazione che parte da questa tara congenita c'è uno stato molto molto centralizzato in cui l'amministrazione locale è esattamente la periferia dell'amministrazione governativa in cui il sindaco veste lasciare patricolore perché ufficiale di governo ed è controllato soprattutto una volta prima della riforma dal segretario comunale che è ministero degli interni in un'Italia del genere pensare che le regioni potessero essere autonome non aveva senso se non per una ragione cioè quello di consentire ai territori di avere un'autonomia politica il problema era la differenziazione politica il problema storico che ha salpeggiato durante tutti i lavori della costituente è che cosa succederà nell'aprile del 48 quando si faranno le libre elezioni chi siederà nel governo e chi sarà cacciato all'opposizione e quello che se ne va all'opposizione che spazio politico avrà articolo 49 nessuna disciplina costituzionale dei partiti non ci deve essere una legge sui partiti se no il primo atto che farebbe non Putin ma chiunque altro sarebbe quello di fare una legge sui partiti che vieta i partiti anticostituzionali la Germania dice qualcosa la seconda cosa è l'autonomia politica delle regioni io perdo le elezioni e ciò le regioni rosse le regioni bianche qualche modo per fare un arroccamento c'è però per fare questo arroccamento bisogna adottare i territori di autonomia legislativa perché il principio di legalità ci dice che l'amministrazione è sottoposta alla legge è la legge che contiene i principi politici e se tu vuoi autonomia politica devi affrancare la tua amministrazione dalla legge dello Stato e questo ha aperto l'orizzonte dell'articolo 117 per cui tutto si è risolto in un problema di rapporti tra legge statale e legge regionale e risparmio dei relativi capitoli dei vecchi manuali tiene questo modello ma questo modello si basa su una cosa che si è persa c'è il concetto di autonomia politica oggi le regioni sono autonome politicamente la domanda mi spiazza esistono politicamente le regioni e mi spiazza ancora di più perché esiste una politica al centro possiamo immaginare i conflitti in Italia come conflitti politici direi proprio di no il motivo per cui chiederò il divorzio delle regioni è che mi sembra che il presupposto di tutto il discorso del diritto regionale cioè l'autonomia politica ormai non ci sia più e la crisi non è una crisi delle regioni è una crisi di tutti gli apparati pubblici ed è una crisi che è essenzialmente la crisi dei partiti è lì che si gioca la partita se non c'è autonomia politica di che cosa stiamo parlando di autonomia legislativa per cosa l'autonomia politica delle regioni potrebbe essere costruita se noi andassimo a esaminare le leggi regionali ma come ho detto ai nostri datori per ultimo Giovanni coi dati se uno legge le leggi regionali resta stravolto cioè le regioni fanno delle leggi che vanno dall'indecente in giù non è non è un caso che la Corte Costituzionale le cassi sistematicamente perché le cassa sistematicamente rari sono i casi in cui la Corte dice è inammissibile il ricorso del governo pure infondato perché il governo di cui non voglio prendere difese reagisce a delle leggi che sono vergognose io non trovo altre parole sono le leggi emanate per la difesa di piccoli interessi derogatori dalla disciplina generale è questo che fanno le regioni se noi prendiamo la richiesta di Zaia di autonomia speciale articolo 116 terzo com troviamo una serie di cose che non hanno nessuna importanza ma dove le cose hanno importanza è sottrarsi dal controllo della sombrintendenza del ministero dell'ambiente e così via cioè portare a compimento la devastazione del territorio di una delle più belle regioni d'Italia una volta che ormai è tutto un capannone cartongesso come dice un libro a cui lettura c'è comune una regione di cartongesso in cui la autonomia legislativa è esercitata con leggi brillantissime con la legge che puniva chiunque disturbi i cacciatori e i pescatori non sto scherzando una legge o forse due della regione che puniva quei perfidi attivisti verdi che vanno a disturbare mentre uno cerca di colpire l'unico uccellino che è passato negli ultimi sei mesi e quelle sono le leggi regionali e noi creiamo un'idea una tipologia di competenze di impugnazioni di strumenti giuridici per il nulla sono tutte leggi che portano deroghe e appena la nuova maggioranza arriva in una regione prima cosa che fa è sbragare cercare di rompere tutti i pochi puntelli che l'ultima che 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 vi segnalo è la questione della legge urbanistica della Sardegna la legge urbanistica della Sardegna aveva aperto la possibilità di costruire ovunque comprese zone protette da tutto da 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 dalle leggi urbanistiche da galasso in poi norme sui parchi eccetera cioè questo è e quando io sento parlare di sussidiarietà e questo è la risposta all'unica che è intervenuta nella lontananza io la bribilisco perché la sussidiarietà è una cosa bellissima ma è anche una cosa orribile perché vuol dire portare il governo a livello più vicino ai cittadini ma a livello più vicino ai cittadini è quello corrotto degli interessi specifici dei cittadini guardate l'urbanistica sono stato cacciato praticamente fuori da un convegno di Upi e Anci in cui ho sostenuto questa tesi che la sovranità urbanistica dei comuni in Italia è uno scandalo non ci credete? andate fuori le centri storici meravigliosi che abbiamo in qualsiasi periferia di qualsiasi città italiana costruita in epoca repubblicana non userò le parole volgari ma tutte sono uguali posti dove i garage sono garage sono case sono chiese tutto a forma di garage costruito da geometri perché? perché nella commissione di inizio ci sono dei geometri in tutti i paesini non Milano magari no ma là ci sono altri interessi ma nel paesino di 30.000 abitanti sussidiarietà la commissione di inizio è fatta da geometri per cui la casetta è la villetta veneta quello che distrugge il paese e questa è la sussidiarietà vista dall'altra parte la sussidiarietà è bella quando c'è il sole ma quando piove è un disastro e purtroppo questo spiega anche perché la sussidiarietà messa in mano la corte costituzionale porta sempre i piani alti non fa mai avvicinare la decisione al livello di base come direbbe il santo principio di sussidiarietà è tutto un modo per dire sussidiario sì sei in grado di farlo tu no allora andiamo sopra è criticabile questo modo di fare Carlo Mezzanotte l'aveva teorizzato esattamente partendo dall'esigenza di portare al centro una serie di decisioni che palesemente non possono stare in periferia allora si parlava delle grandi opere poi si è andati progressivamente sempre più in giù però quali sono le decisioni adeguate a un livello politico così degradato come quello della nostra vita politica di periferia questa è la vera domanda ma voi avete presente quando nel pieno della pandemia Giuseppe Conte scusate la parola convocava i presidenti delle regioni comparivano che uno diceva ma chi sono costoro quello è il massimo dell'applicazione di una corretta sussiliarietà prendiamo le decisioni insieme cioè io non ho coraggio dipendo della sole condividiamo una qualche responsabilità ma non è stato un grande momento di vita di autonomia regionale e poteva essere decisivo a quel momento governo particolarmente bisogno di integrazione di consenso che invita i presidenti delle giunte a condividere decisioni strategiche difficili inedite caspita potere politico sì ma potere politico dato a Pippo Pluto il paperino questo è il fatto che poi tornavano nel loro regione e dicevano l'opposto che è un classico esempio di vita politica italiana bisogna sempre discostarsi mai essere conformi alla decisione assunta in consiglio dei ministri se no perdi la tua visibilità e tornavano e facevano la loro ordinanza che derogava e così via da cui la reazione della corte costituzionale che ha preso la valdaosta perché era quella come dire 100.000 abitanti si può veramente parlare la dura duro linguaggio del diritto e l'ha fulminato ma poteva fare diversamente cioè qualcuno è venuto in mente che una corretta risposta della corte avrebbe dovuto essere difesa dell'autonomia della valdaosta credo di no il resto sono argomentazioni giuridiche e le argomentazioni giuridiche costano più o meno tanto possono essere più o meno belle forse Barbera non è il più raffinato cesellatore di argomenti giuridici però la sentenza è piaciuta a tutti e ha segnato un punto su certe cose non si scherza che non è un argomento giuridico è pregiuridico ma è tanto come argomento vedete se noi guardiamo la storia repubblicana delle regioni io mi sono sposato con le regioni quando le regioni erano le regioni per la riforma dello Stato e le regioni per la programmazione anzi il mio primo lavoro doveva essere la programmazione regionale non l'ho mai fatto e ho già saggio perché non c'era niente da fare non c'era niente da dire scrivere un libro su niente è facilissimo una certa età ma come primo libro è drammatico e di conseguenza quel libro non c'è mai stato e non c'è mai stato neanche una programmazione regionale diciamo però c'era un'idea politica c'era ancora un'idea politica delle regioni che non era quella del 48 tanto è vero che la questione della separazione tra legge statale e legge regionale era una cosa più da libri che una cosa vissuta della politica c'era l'esigenza di lanciare una nuova generazione di politici le regioni potevano e potevano dar adito sono stati anni che ricordo fin troppo bene perché anche era impegnato politicamente anni in cui le elezioni comunali le elezioni regionali stavano facendo un terremoto in Italia nuove amministrazioni nuovi accordi politici i famosi socialisti che stavano nel governo con i cristiani in prefaglia con il partito comunista ma come grandi pontieri ma l'idea era di una trasformazione del paese di cui le regioni potevano essere un tassello e le regioni hanno avuto anche dei presidenti allora di un certo livello cioè personaggi politici significativi però tutto questo è passato progressivamente e non è lasciato più tracce cioè di grandi personaggi come i presidenti di regione negli ultimi anni non ne abbiamo abbiamo dei personaggi televisivi perché perché i politici sono tutti trasferiti in televisione questo è il dramma di questo paese forse non solo di questo paese ma noi abbiamo perso quella che è la base della politica che sono i partiti che non hanno più un'azione nella società le sedi periferiche dei partiti sono chiuse si autoalimentano anzi alimentano la sede centrale perché porta via anche il sangue e non c'è più attività politica sul territorio se non c'è più attività politica sul territorio non c'è autonomia è così semplice è banale ma perché bisogna avere in antipatia le cose semplici la crisi è una crisi politica e senza una riscoperta della politica regionale la politica locale non si farà nulla vi segnalo che questo è un problema di tutte le regioni di tutte le regioni nessuna esclusa io non ricordo una presidente di regione che possa manerbanto di aver lasciato un segno forte nella sua regione non riusciamo neanche a capire bene come potrebbe farlo forse e invece ci sono stati dei sindaci che hanno lasciato il segno nella loro città ci sono città trasformate penso a Torino una città trasformata Trapani da parte d'Italia Salerno povero De Luca ha trasformato una città hanno lasciato il segno hanno potuto lasciare il segno i presidenti delle regioni non hanno lasciato nulla dietro di sé questa è la la grave cosa dopodiché tutto il resto sono sovrastrutture giuridiche io capisco avendo commentato non ricordo più quante decine di sentenze della Corte Costituzionale e tutte tra reazioni quasi allergiche non posso certo parlare bene della giurisprudenza della Corte Costituzionale ma forse per la questione di ormai senescenze mi sono quasi più simpatiche le sentenze della Corte che le motivazioni delle regioni come si fa a lasciare l'autonomia a chi l'autonomia non è in grado di gestirla e non è in grado di gestirla perché non è ha la forza e l'intelligenza politica di fronte a una regione che fa l'ennesima legge per derogare alle norme ambientali e ce ne sono a pacchi come si fa a lasciare il semaforo verde di cento si però in effetti la materia trasversale non si può onestamente se voi guardate la giurisprudenza che è stata inaugurata da Valerio Nila soprattutto del siervo negli anni 2000 appena appena passata la riforma del titolo quinto è una una giurisprudenza tutta di promozione delle regioni no? Le famose sentenze in cui diceva non chiedono le regioni che lo Stato non faccia quello che loro possono fare si prendano quello che il 117 dà a loro e non ci sono prese niente hanno solo impugnato le leggi dello Stato ma non si sono resi attive i protagonisti di una politica regionale e questa è la cosa veramente per cui dopodiché sono venute tutte le altre commentazioni che sono state devastanti dal punto di vista presa sentenza per sentenza quando è cominciato all'arrivare la materia attraversale la materia attraversale ma non tanto perché poi comunque di competenza statale il bilanciamento tra interessi sentenza sul ripetitore telefonino di Lombardia la prima che ha segnato una svolta e poi il criterio di priorità c'è un intrigo non si dice intreccio intreccio di competenze e dove c'è intreccio di competenze inestricabile l'intreccio o inestricabile o non è un intreccio lì bisogna adottare il criterio di priorità e dove porta il criterio di priorità si sa si sa ultima cosa poi veramente finisco il mio sfogo perché più che le conclusioni mi rendo conto che non sfogo è la questione dell'amministrazione che è una questione seria e che non riguarda solo le regioni riguarda tutte le amministrazioni autonome comprese quelle delle università la tua università a un certo punto aveva il bisogno di capire come ne usciva da una modificazione legislativa delle commissioni di uscita di dottorato e che cosa hanno detto chiediamo il ministero anzi in attesa blocchiamo tutto in attesa che il ministero ebani le linee guida io mi sono permesso di dire conoscendo qualcuno dentro ma l'autonomia università secondo voi significa qualcosa ah sì sì professore quello è un bel tema però abbiamo tanti problemi da risolvere capito questo è è quello che succede in regione le regioni sono autonome ma di che quando le regioni hanno un problema cosa fanno l'amministrazione istruisce la pratica arrivata sull'orlo della sua conoscenza che è un orlo molto stretto tira sul telefono e parla col corrispondente al ministero l'arte dell'interpello che è devastante in questo paese l'interpello non esiste nel dizionario dell'elico italiana ma ormai esiste dappertutto nell'amministrazione da quella finanziaria in poi per cui tu interpelli l'altra parte ciao autonomia non parliamo di autonomia dove c'è interpello non c'è autonomia nessuno si prende le responsabilità di dire io sono autonomo applico il 117 e faccio perché poi ne paga le conseguenze c'è la conta dei conti dall'altra parte della barricata e quindi l'autonomia non c'è questa è la tragedia che mi sto proponendo in queste tristissime conclusioni di cui mi scuso ma da questo bisogna reagire e non si reagisce con una riforma costituzionale immaginandoci una bella norma costituzionale fatta che riforma costituzionale ragazzi dovremmo aver imparato che ogni volta è un salto più nel fosso che si fa non è lì che si può andare a parare qui bisogna riuscire a capire quali sono i tasselli su cui agire che non sono necessariamente legati all'autonomia sono per esempio legati ai partiti siamo l'unico paese d'Europa che non finanzia con soldi pubblici i partiti ci sarà un motivo che da noi le cose funzionino in questa maniera non è quello il punto una legge sui partiti non potrebbe essere anche una legge sulla regionalizzazione dei partiti tante cose si possono fare non credo che si possono fare con qualche modifica dell'articolo 117 come vorrebbe il nostro amico e collega quindi grazie 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 a tutti per la partecipazione e a domani alla ripresa dei lavori grazie